Ma tu l'anello, l'avresti tenuto? Sì, mi piacciono molto gli anelli, poi c'è questa cosa che ti trasforma in una specie di mostriciato, però a parte quella... Wrong meeting, wrong meeting! Grazie Klaus per i sei mesi. Buonasera Luca Cordoglio, Ari dice mummificato, è vero, è vero, è vero, mummificato, mummificato. Bendato. Bene, 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 buonasera Grimensore, Leo, Victor, top tatuaggio, ti amo ti dice. C'hai già una dichiarazione d'amore. Forse è quello di Batman, non lo so. Ah può essere, ne ho tanti. O quello dello Stormtrooper. Fammi vedere, c'hai, allora. Purtroppo io ho una pelle da rinoceronte, quindi si sono sbiaditi, devo ribattere. Ho Arancia Meccanica, poi questo è Uka Uka, non gli ho fatto la banda sulla... Che cazzo è Uka Uka? Io adesso mi abbandono gli studio e non torno mai più cazzo. No aspetta, aspetta, ricordamelo, perché cos'è? È il Crash Bandicoot. Uka Uka! Quello di Crash Bandicoot! Ma ci ho giocato millenni fa, vecchio mio, Luigi Oda, quindi hai ragione, hai ragione. Questa è la frase di Donnie Darko, perché andassi con lo stupido costume da woman. Ci picchiamo su Donnie Darko dopo, se vuoi sì. Questo è Batman, ma è anche una cosa che ho fatto con amici. Ok. Vecchia nata. Questo è Zero di Nightmare for Christmas. Ah, pensavo a Renato Zero. No, che poi in realtà doppiava Jack Skeletron, quindi... Ecco, quindi... Poi questo va detto in Pix, i Goofy non sono quello che sembrano, uno Stormtrooper fatto a Flash così. Giusto, giusto. Questo l'ho fatto quando è morto Fabrizio Frizzi. Ok. No. Sì, poi ho un Dalek sul Polpaccio, un Fantozzi che è diventato virale anche... Ah, me lo ricordo bene. Anche negli Stati Uniti. Ma cosa ti è successo quando hai fatto quel Fantozzi, Vic? Eh, mi piace un sacco. Cioè, io... A me piace tantissimo. Cioè, io quando lo guardo dico, minchia che fiero sto Polpaccio. Ma, cioè, guarda, per il tipo di tatuaggio gay, seppure non ti piacesse sarebbe una tragedia. Per fortuna ti piace. Eh, ti giuro, a me piacciono queste cose un po' rustiche, capito? Sì, sì, sì. Poi ho Al Coniglio, Frank e Donni d'Arco, qua dietro la spazio. Ah, ok, ok, bene. Quindi, ben due tatuaggi di Donni d'Arco. Due, è il mio film preferito in assoluto. E l'hai risolto, il problema, poi? Quale problema? Il problema che sia il tuo film preferito. No, in realtà l'ho visto in un periodo, ero un ragazzino, in cui ero un po' giù per alcune cose e quel film mi ha aperto gli occhi su tantissime problemi che avevo. Quindi è un film preferito emotivo. Assolutamente emotivo. emotivo perché era un periodo in cui ero anche un po' bullizzato, non avevo ancora trovato la mia identità e vedendo quel film ho capito che forse essere se stessi a volte non è poi così male, quindi poi va a interpretazione, va a interpretazione, perché poi comunque insomma non volevo fare la sua fine, però il film mi ha ispirato tanto. Schiantati su di me, maledetto aereo! Esattamente. Allora, grazie a Tonio Bonda, grazie a Sharina, grazie a Klaus, grazie mille a tutti per quel Fantozzi dicono che è indimenticabile. Ma Tonio Monda? Tonio Monda. No, grandissimo! Ha appena regalato un abbonamento ed è nostro abbonato dopo il tempo. Lui mi seguiva un sacco di tempo, lui era fissato con una bevanda svizzera frizzante fatta dal latte vaccino che si chiama Rivella. La Rivella. Me la nominava, ma ti parlo di dieci anni fa, me la nominavo ogni due per tre e io una volta ho ordinato… Solo quello della Rivella, infatti. Eh vedi, infatti. Io ho una memoria per il nickname, non mi ricordo i nomi, eh, io tipo quando vado ad una persona che si presenta io penso ai cazzi miei, poi dopo quando devo chiamarlo per noi dico come è che si chiamava questo? Invece con il nickname no, non ho problemi. Che poi tu, nel senso, devi avere un'esperienza lunghissima con il nickname. Abbastanza. E' stato attivo nel 2010, perché nel 2009 facevo il video con un altro ragazzo, ci chiamavamo in Mar di Matta, mi ero diplomato da poco, me l'ho dato da un annetto, e quando poi ho fatto, ho registrato il canale, ho fatto un video, l'ho riguardato e ho detto no, mai più nella vita, poi a gennaio 2010 ho detto ma sì dai faccio il primo video che è quello di Avatar e lo faccio negli unici due giorni in cui era uscito il video di Yotobi, l'unico serio della sua carriera su Avatar. e quindi mi sono trovato all'improvviso, copy Yotobi, copy Yotobi, io mi pensavo ma chi cazzo è Yotobi, non lo so, non ho idea chi sia, e poi ho scoperto chi era Yotobi, insomma è stato bellissimo. Bellissimo, copy Yotobi! Sì, io infatti ero lì dicevo ma chi cazzo è sto Yotobi, andiamo a vedere, ho detto no, non lo occupi, copy Yotobi perché hai parlato del suo stesso film, ho detto Yotobi copy! Sì perché c'è il copyright sui film da recensire, in effetti. Eh ma in effetti sì. Non la sapevo questa cosa. Solo una persona la può fare. Beh ma in questi giorni si scoprono tante cose. Grazie discount decadente per i quattro mesi, grazie mille. Anche io dice Goyo, un rapporto morboso con i nick, sai che l'avevamo capito? Infatti noi ti chiamo ancora con un nick che non hai più, però tu continui a cambiarlo, quindi è così. Buonasera a tutte le meraviglie presenti, scusate il ritardo, ero sul canale di Michele a cercare di capire se moriremo tutti. Ah ok, ciao Marcello. Moriremo tutti? Speriamo di no, diciamo che sicuramente sono periodisti. Ragazzi, vi do una brutta notizia. Sì, moriremo tutti. E poi, ma non per questo. Poi vedremo. Grazie Mr. Bok per aver regalato tre abbonamenti, grazie mille. Facciamo partire l'hype train, facciamo partire l'hype train. Mi abbassi un po' le cuffie. Mi abbassi un po' le cuffie. Cosa sei tu il tre? Credo il tre. Bla 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 bla. Io sono dell'idea... No, non sono le mie. Bla 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 bla. Ok, perfetto. Sono questo. Ok, perfetto. Io sono dell'idea che dopo una pandemia ti fai mancare anche altro. provi un po' tutte le esperienze, capito? Sì, sì. Ma in realtà adesso io non vorrei, io non voglio fare il corvo del malauguri assolutamente, però tipo nella storia c'è proprio una sequenza di eventi di questo tipo, è molto presente. Guerre, conflitti vari proliferano quando ci sono già degli indebolimenti. Cioè ci hanno appena affumicato, vedi? Ah, perfetto. Non ne avevo notato, no. Si proliferano quando ci sono problemi di altro tipo, quando gli governi sono indeboliti, pandemia e quant'altro. Arriva tutto assieme. Tutto assieme, tutto assieme. Non sono sfighe, sono... è la storia, è la storia. Questa però è una cosa che mi mette... guarda, prima parlavamo del paradiso perduto, ok? E quello è un libro che in realtà io ho voluto fare proprio in questo periodo con la monografica perché è un libro che è estremamente interessante in quanto ti dice ricordati che tu non hai il controllo su niente. Cioè le cose su cui hai il controllo sono veramente poche e l'inferno è voler controllare le cose su cui non hai il controllo. C'è quella frase bellissima in cui Satana a un certo punto sta lì e dopo essersi mostrato tutto forte e fiero di fronte ai suoi condottieri, ok? Di prendere Moloch, Beliale e via dicendo, strisce nell'Eden, espia, Adamo e Deva, tutto rancoroso, invidioso. A un certo punto dice quella frase spettacolare, dice, misero me, dice, ovunque vada è l'inferno. Perché l'inferno è dentro. Ed è pazzesco questa cosa qua. Ed è un libro importante perché ti dice quella roba lì e io credo che sia la lezione da imparare da questo periodo. Pensavamo, sai che c'è tutto quel discorso anche sulla fine della storia, che ormai non ci sono più i conflitti, non c'è più niente, e si è rimessa in moto la storia. Ma è normale. Alla fine l'essere umano ce l'ha dentro. Noi siamo solo degli animali molto evoluti, c'è una frase bellissima che dice l'essere umano è più intelligente dei topi, però non ho mai visto topi costruire trappole per topi. In effetti, quindi l'intelligenza può essere anche uno svantaggio alle volte. Purtroppo ci sarebbe da dibattere sui famosi corsi e ricorsi storici, che è un discorso molto complesso, però non è neanche del tutto sbagliato. Diciamo che non ho mai visto neanche un topo tipo fare, non so, un'opera come Bastardi Senza Gloria. No, 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 ma infatti ci sono i lati positivi. Ma no, ciao Darwin! No, ma come andare Senza Gloria a fianco di ciao Darwin? Ci sono i lati positivi e i lati negativi. Finché ti fai la gioconda, finché fai la primavera dei Botticelli, bellissimo. Poi purtroppo l'uomo è capace di cose belle e di cose brutte. E che sai, questa è una cosa interessante perché ci sono tantissime opere, anche nel cinema. Pensa soltanto ad Equilibrium, cioè le persone ad Equilibrium, bellissimo, con Christian Bale, esatto. Che ovviamente riprende moltissimo dai libri di Aldous Huxley e da Orwell, ovviamente. È distopico, quindi. Esatto, e l'idea centrale è che non puoi avere la gioconda senza Auschwitz. Che è una cosa terribile da dire. Era vero. Però è veramente, cioè nel senso, la tensione della nostra intelligenza è una tensione creatrice e per questo distruttiva. Ma poi c'è anche da dire una cosa, ad esempio, io faccio l'esempio dell'epoca medievale, no? Quindi c'è tutto lo stereotipo, il secolo bui, i secoli bui e quant'altro, sì. Amaro Nonino non è il nostro sponsor. Ma se Amaro Nonino vuole, Daily Cogito ne fa largo consumo, ma ci dissociamo da tutti quelli che veramente ne abusano. No, assolutamente no. Bevete responsabilmente, siate Boba la guida. O bevi o guidi. Comunque, a parte questa retorica della pubblicità progresso, che è giustissima comunque, quello che volevo dire è che effettivamente, se tu pensi al Medioevo, che ha avuto tanti lati negativi come periodo, ha avuto anche tanti lati positivi, perché comunque, repressione è tutto quello che vuoi, però durante l'epoca medievale la repressione ha portato comunque anche a opere che sono rimaste nel tempo. Sì, assolutamente, assolutamente. Si parla tanto, ad esempio, ingerenza della Chiesa e quant'altro, ma se non ci fosse stato quel tipo di ingerenza della Chiesa non avremmo avuto la Commedia di Dante. Chiamiamo Divina Commedia, in realtà il titolo è la Commedia di Dante. Quindi ogni cosa negativa, che porta magari anche morti, che porta tante cose brutte, ha i suoi lati positivi, perché l'essere umano è così, è un dualismo continuo, ma le persone sono sempre così, anche le persone buone, almeno una cosa cattiva nella vita l'hanno fatta, volendo e volente. Ma non è solo la cosa che fai, è il fatto che dentro di noi comunque covano pensieri inaccettabili. Ma è normale. Ed è così. Per esempio, io ho deciso di invitare te. Io penso che ho deciso di venire, tu pensa a te, il male che mi sono fatto da solo, porca puttana. Potevo stare a casa, ma potevo fare qualcosa di costruito, guardare la vernice sul muro che si asciuga, potevo dipingere una patata. Diventavi Mr. Fisk, diventavi Mr. Fisk. Diventavi Mr. Fisk, esatto. Potevo cercare la lana nell'ombelico. Però il panino di stasera forse ti ha convinto. Ma quello senza uova di dubbio, dove c'è da mangiare ci sono io, sono quadrato. Anche l'amaro, molto buono tra l'altro. Una delle cose terribili, secondo me, di quest'epoca. Voglio porti questo problema perché tu sei parte integrante di quella schiera di creatori di contenuti. Ovviamente parlando di cinema, parla di tutto quello che sta intorno al cinema. E voglio chiederti come vivi il problema del trailerismo. Perché te lo chiedo? Perché io mi occupo di filosofia. Una cosa la filosofia mi ha insegnato, e non me la toglierò mai dalla testa. L'uomo è infelice a causa delle aspettative. Ciò che ci rende infelice è il fatto che noi costruiamo aspettative e la realtà o le deluderà oppure le contraddirà perché fa una cosa completamente diversa. Perché le aspettative sono figlie di un qualcosa di irreale, solitamente. Non ti fai quasi mai aspettative realistiche. Esatto, perché altrimenti non sarebbero aspettative. E io invece mi rendo conto che nell'ambito della fruizione, soprattutto del cinema e delle serie tv, noi stiamo vivendo invasi dalle aspettative. Il cosiddetto hype. L'hype, esatto. Io voglio parlare con te dell'hype che sta disintegrando la nostra possibilità di fruire di un'opera. In generale. Bella domanda. Io ti devo fare una piccola premessa. Ti chiedo e vi chiedo in generale. Tu sai da dove nasce il termine? Che termine? Hype. No. Ecco. Il termine hype è un termine che nella lingua inglese indica l'astinenza da sostanze stupefacenti. Hype? È astinenza? Quello è l'hype. Bellissimo. E quindi, sì, poi si è esteso, ma nasceva per indicare quello. Quindi, è molto significativo che l'hype nasca da quel concetto lì. Perché a un certo punto noi siamo diventati drogati. Io so di essere in parte responsabile, per quanto riguarda la community italiana YouTube, per l'hype. Perché facevo tanti video su Spider-Manoveo e quant'altro. Il punto però è, io li facevo perché, io, attenzione, una cosa la voglio dire. Sono stato molto criticato in quel periodo, ci può stare. Però, io faccio presente che non toglievo spazio. Io facevo anche, quando facevo un video di Spider-Man, ne facevo anche un altro in quella giornata. Perché volevo continuare la mia attività parlando un po' di tutto. Sì. Facendo però. Affiancandola a quello. Perché? Perché ovviamente io non mi compro il pane strofinando l'ascella sulla cassa dal fornaio. Però sarebbe un bel modo per pagare. Sarebbe un ottimo modo. Perché questa è una cosa che... Ti porta in galera. Sei appena diventato abbonato a dei Licogito che ti hanno regalato un'altra me. Grazie, grazie. Non ero abbonato. L'avevo fatta e mi era scaduta. Perché sei uno stronzo. Ma quello è quello. Sono venuto qui, penso. Figurati se non sono stronzo. Però il discorso è che... C'è anche una questione. Quando si fa questo tipo di lavoro, bisogna mediare tra ciò che funziona e ciò che vuoi fare. Io mi diverto un sacco a fare quel tipo di video. Però preferivo affiancare anche altre cose perché comunque non volevo parlare solo di quello. Però lo facevo perché giustamente alla gente interessava, facevo visualizzazioni. Però fai una recensione di un film che so, Cry Macho, te la guardano in 7000. Fai un video di teorie sul costume di Spider-Man, te lo guardano in 40.000. Quindi in un certo senso io facevo entrambi. Perché Cry Macho lo volevo fare. Sapevo che avrebbe fatto poco, sti cazzi non mi interessava. Però allo stesso tempo c'è anche da pensare a portare il pane in tavola e quindi devi fare anche cose che funzionano. Ma che funzionano e che hai voglia di fare. Perché se fossero cose che funzionano e che non mi va di... Io ho perso diversi trend, chiamiamoli così, perché non mi interessava salirci sopra perché non erano le mie corde. Quindi so di aver contribuito al treno dell'Ipe. Sto parlando di Twitch. So di aver contribuito a questa cosa. È il treno del fomento. Però il punto è, noi facciamo un mestiere per cui in un certo senso dobbiamo dare, nella giusta misura, alla gente quello che vuole. Per cui se a te chiedono, non so, tipo, Rick fai il paradiso perduto, fai il paradiso perduto. Magari tu non avevi... Non chiede nessuno. Facciamo finta, facciamo finta che la gente ti accontenti. Tu magari lo fai perché vuoi. Guarda, il giorno in cui qualcuno arriva e mi dice, tipo, no, perché una persona magari... Ma il giorno in cui, tipo, una community di persone arriva e mi fa, devi fare il paradiso perduto. Io prendo, stappo il cuveo. No, 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 mi taglio i capelli e vado a fare trasmigrazione dell'anima in Tibet perché vuol dire che il mondo non lo capisco. Rick, ti prego, mi leggi le Upanisha delle sette del mattino? Ah, mi leggi sono rimasto un po'... Il discorso è, se per me ne sono a dirti, Rick, ma una bella analisi filologica di 50 sfumatoni di grigio? Ti seguirebbero in tanti, ma la faresti? No, ti cago su nel salotto. Bravissimo, è proprio quello. Quindi una cosa che farebbe successo non la fai. Nel mio caso avevo voglia di farlo e il punto è, ho contribuito sicuramente a un certo tipo di tendenza che però andrebbe avanti anche senza rimai perché il fatto che ormai le persone vogliono tutto e subito. Siamo in una società in cui tutto si muove velocemente grazie o per colpa, dipendendo dai punti di vista per il web. E quindi, facci caso anche nei film, il fatto che se c'è una cosa nella trama che è suggerita ma non è spiegata, la gente si lamenta. E vuole andare. Ma lo devi spiegare. Un conte se è una cosa che non ti spiegano e che ti va a inficiare il senso della trama, allora lì posso capire. Ma se è una cosa che il famoso finale di Lost che tanti criticarono, perché siamo in questo periodo storico in cui le cose devono essere servite, pronte. Quindi tu vai a vedere il film, ma sai già tutto nel film. Ma il finale di Lost mica va spiegato. È una merda e basta. A me piace un sacco. Io bevo questa buonissima croppa e me ne va da fanculo. Scusate, non ti è piaciuto il finale di Lost? No, il finale di Lost è il Deus Ex Machina classico da milioni di volte. Sentito, risentito, uscita facile. Sei uno di quelli. Uscita facile. Uscita facile. Va bene. Beviamoci sopra. Sono con odio per il resto. Sono uno di quelli. Mi piace molto. In realtà, tu hai detto una cosa interessante su finale di Lost, nel senso che dici, è facile per te. Una volta arriva uno a dirmi, è una cacata. Perché si capiva subito che erano tutti morti all'inizio. Ma che cazzo di finale di Lost hai visto? Ma qua non è così. Tornando al discorso dell'hype, il problema è questo. Effettivamente, noi non ci godiamo più nulla. Noi non ci godiamo, e attenzione, perché noi siamo nella società di TikTok. Ma non, io sono un grande fruttore di TikTok. TikTok per me è la sintesi del non fare un cazzo. Quando io non devo fare un cazzo, uso TikTok. Perché ti teni nella mente occupata con contenuti che molto spesso sono anche interessanti. Perché ci sono un sacco di content creator interessanti su TikTok. Però il punto è, TikTok è la sintesi della nostra epoca. Non ho tempo di guardarmi un video di 20 minuti. Quindi me ne guardo 400 da 10 secondi. È che è un problema enorme. È un problema enorme. La soglia dell'attenzione, che è calata, sembra retorica come cosa, però è anche vera. E il punto è, siamo in quella fase in cui non abbiamo tempo di fare cose, ma abbiamo tanto tempo da perdere e non ce ne accorgiamo. E vogliamo tutto e subito, ma soprattutto va in contraddizione col cinema, questa cosa di TikTok. I film quelli attesi, quelli molto attesi, durano un sacco. Ormai sembra che se un film stra atteso non dura almeno due ore e un quarto, non vale la pena di essere visto. Io ricordo che quando è uscito Ragnarok, che è il film più breve relativamente dell'MCU, molti mi dissero, hai sentito? Sarà il film più breve? Ho detto, cioè un'ora e quaranta. Ho detto, minchia meno male. Finalmente. Un po' di sintesi. A un certo punto ero seduto sul mio stesso sacco scrotale come un puff. Possiamo dire che la saga Marvel, il difetto che io ho sempre detto è la logorrea. La logorrea però, ad esempio, io martedì vado a vedere l'anteprima The Batman. Eh sì, sì, benissimo. Lo fanno la mattina, perché, io quando l'ho visto ho detto, ma perché? Dura due ore e cinquantacinque minuti The Batman. Due ore, cioè quasi tre ore. Io ero lì che dicevo, ma perché? Avranno anche qualcosa da raccontare. Ma tre ore? Cioè, eh sì, questo ti perso. Quanti cazzo di enigmi fate? Esatto, no. No, però, magari poi è bellissimo. Per dire, anche il film di Morico, il documentario di Tornatore. Mi ha detto che c'è una scena di cinquantatré minuti in cui Bruce Wayne piscia fuori dalla finestra. Che io guarderei molto volentieri solo se si vede il pene di Pattinson. Non si vede il pene di Pattinson. Willian Defoe, beh, però quella in realtà c'era la questione. Era finto perché era troppo grosso. Esatto. Però ad esempio, mi ricordo, in Watchmen a un certo punto c'è questa scena con Yaya Abdul-Mateen nudo, che io quando l'ho vista ho pensato, ma madre mia! Ma quello se si sporgi in avanti rimane in obliquo. Io sono molto per queste cose qua. È un po' come Michael Fassbender in Shameless, in Shame, non so se hai presente, no? Sì, sì, sì. Che ha un suo effetto sonoro. Quindi, sì, io sono per queste cose. Io adoro, perché facci caso. Io adoro i peni. No, no, adoro. Adoro i peni belli. Io il pene lo stimo molto, proprio come sì, sì, lo stimo tantissimo. Perché cazzo c'è il senso? Hai anche amici peni. Ho anche amici peni, assolutamente. Ho un sacco di amici peni, esatto. Ma il discorso è che, facci caso, nei film i sceni non sono più così tabù, no? Quindi nei film si vedono spesso i semini, si vedono anche delle vulve, penso ogni tanto. Ma i peni sono ancora tabù. Quando vedi un pene in un film, è leggero, cazzo. Anche in Game of Thrones, guarda, guarda. In Game of Thrones, tra l'altro, erano anche abbastanza cattivi con questo, perché mettevano un sacco di donne nude, ma pochissimi uomini nudi. Il pene dell'intrattenimento è ancora tabù. È ancora tabù. Il nudo femminile è una cosa ormai sdoganata. Il nudo maschile non fa. Hai visto Pam & Tommy? Ho visto Pam & Tommy, sono tutte protesi purtroppo, sono tutto finto. Soprattutto quello in cui il suo pene parla, cioè se non fosse stata… Non è una cosa che tu fai? Sì, ma non si muove in quel modo. Io mi rispondo. È tutto dentro la mia testa. No, no, no. Io lo uso anche come navigatore, quando vede che pende a destra, a sinistra. Pende a sinistra, esatto. La rotonda è bellissima. Io mi sposto anche per brevi tratti tipo elicottero. È bellissimo. Esatto, io giro il volo. Assolutamente. Io assolutamente. È il cambio anche. Anche il cambio mi capita ogni tanto. Il casino è la retro. Ma il disco è bellissimo questo. I pene opponibili. Sto male, ragazzi. Uomo che sussurrava i pene. Ma perché il vostro non è opponibile? Vabbè, comunque. È ripaltabile. Oppenibile. È openibile, esatto. Quindi il discorso è che… Il mio cabriolet. Anche lo scappato. Basta! Vabbè, ma la circoncisione serve a quella. No! No! L'antichetti serve l'ombre. Ma il… È il discorso? Oddio santo! Oddio, oddio, oddio. Ma andando avanti seri, perché se no qua è il degenero. Esatto. Il nudo maschile è parecchio tabù ancora. Sì. E infatti, a me fa morire da ridere questa cosa. Non hanno… Questa è una cosa che dice sempre il mio amico e collega Rob McQuack. Hanno interrotto… Ciao Rob. Ciao Rob. La produzione del revival di Lizzie McGuire. Perché si vedeva in una scena Lizzie McGuire, interpretata da Hilary Duff, in pigiama, letto con un ragazzo. Non stavano facendo niente, ma presupponeva che lei con quel ragazzo facesse sesso. E che fosse letto magari dopo un amplesso. Quindi non andava bene. L'hanno interrotto. Ma Disney, nelle pubblicità su Pame Tommy, mette il logo Disney Plus, eccetera. E in Pame Tommy ci sono più piselle lì che nel minestrone della Valle degli Orti. È una cosa impressionante. Quindi, capito, è assurdo. Perché è su Star. Però quando poi lo pubblicizzano, c'è proprio il logo di Disney Plus con l'archeo. È un controsenso. Che poi è un controsenso che c'è sempre stato in una nostra società. Cioè, il sesso è ancora un tabù. Però te lo sbattono in faccia costantemente. Cioè, io mi immagino, mi immagino tipo la scena, capito? Non so, la famigliola, mamma, papà e bambino. Lì aprono la televisione, Disney Plus. E cosa guardiamo questa sera? E il bambino fa, mamma, mamma, c'è Pame... Se hai il parente al control. No, ma anche se hai il parente al control, devi andare proprio a cercarla. Non ti viene... No, no, no. A me era il front page. A me Pame Tommy front page, secca. Perché tu non hai il parente al control. No, non hai il parente al control. E quello è il fatto. Vabbè, se dei genitori non sanno usare il parente al control, aprono, ok. Ma cosa guardiamo stasera? Io mi dissocio perché i genitori di oggi giorno sono estremamente responsabili. Vorrei vedere... Ah sì? Dei gran pompini. Ah, va bene, mamma, guardiamo. Mi dissocio assolutamente dai genitori. E quindi, insomma... I genitori. E questo è questo. Tornando a... Abbiamo fatto un giro lunghissimo. Tornando a live... Siamo partiti da Batman che pisce giù dalla finestra, peraltro. E tu mi fai pensare a cazzo di Pattinson e io. Torniamo a live. T'altro, tu non so se lo sai, ma domani pomeriggio, Robert Pattinson sarà intervistato in un grande programma nostrano di approfondimento culturale. Ma dai! Verissimo con Silvia Tofanin. Non sto scherzando, è tutto vero? Giuro, sì. Ah, dai. Figo. Insomma, sarà, immagino, il tenore delle domande. Ma al di là di questo... Ma c'è delle intelligenze. Ma il tuo pene. Dopo questa trasmissione sarà... Ma il tuo pene vuol dire... Allora, volevo parlare di Edward Cullen, ma pensavo che fosse più opportuno parlare del tuo cazzo, insomma. Ma comunque, il discorso è live, perché lo vuole la gente, cioè è quello che chiede il pubblico e io, ovviamente questa cosa non è confermata, però i casi sono due. O Disney ha affidato la sicurezza a Bombolo, oppure è piuttosto chiaro che loro dicono perché dobbiamo spendere milioni di marketing quando basta far finta che ci abbiano rubato una foto che palesemente abbiamo diffuso noi. È vero. È logico. Con Doctor Strange nel Multiverse of Madness, molti dicono, ma non stanno licando molto. Ancora. Perché hanno capito che il multiverso è una fonte di guadagno inesorribile. Addirittura per Doctor Strange nel Multiverse of Madness hanno ordinato il reshoot per inserire dei cameo a caso di attori popolari che interpretassero personaggi. Noi non abbiamo memoria storica per nulla, ma non ce l'abbiamo neanche per le cazzate. Un sacco di gente che mi viene a chiedere, oh Victor, ma hai sentito che c'è il rumor su Doctor Strange in Multiverse of Madness in cui ci dovrebbe essere il Daredevil di Ben Affleck, ma che figata. Ma ve lo ricordate? Cioè, oh, fino ad un altro giorno era una merda il Daredevil di Ben Affleck. Noi l'abbiamo visto due settimane fa in Watch Party. È orribile! È una merda! È divertentissimo. Però posso dirti che la scena con gli Evanescens e, com'è che si chiama l'attrice che fa? Wake me up, Peter! È Jennifer Garner che era la moglie di... Jennifer Garner che fa l'allenamento in cui taglia sacchetti, vieni di sabbia, che non sai da dove arrivano. Quella scena è di un'epicità trash che mi... Io avrei voluto che uno di quelli fosse il mio scroppo, ti giuro. No, Peter! Io non dimentico il ciuffo aggressivo di Joe Pantoliano in quel film. Perché voi lo siete, io non me lo sono dimenticato. Sembrava Aldo Baglio quando faceva il professore d'inglese con il ricciolino che gli scendeva dalla coppola, c'era una cosa terrificante. E vogliamo parlare di Colin Farrell in quel film? Sai che Colin Farrell... Ci sono degli attori che quando gli fanno la domanda fa ma io non ho mai fatto quel film. Uno è Colin Farrell con Bullseye e un altro è Tommy Lee Jones per quanto riguarda Batman Forever. No, ma perché? Io adoro quel film! Ma io adoro! Che poi sia... La cosa divertente è che sia l'enigmista che due facce sono sempre il Joker. Fenomenale. Perché la caratterizzazione è quella del Joker. Sono lo stesso personaggio. Però capito? Il punto è che noi siamo in piena cultura dell'hype. Perché abbiamo bisogno che ci imbocchino. Noi non riusciamo più a goderci... Ma guarda che questo non sono il cinema. Noi non riusciamo più a goderci niente. Guarda, ma anche questo su veramente larga scala. è un po' come quando... Adesso vado in un'area diversa, però ti faccio un esempio. Quando, metti che sei single, che inizi a sentire con una persona, che si inviano le futine, no? Sì. E quello ti spoilerà un sacco di cose. Certo, è vero. È vero. E la tecnologia ha cambiato tutto. Cioè una volta c'era quel brivido del vedo quando sono lì. Adesso invece sai già che sembra una cazzata. Però io sono serio in questo momento. Però dieci anni fa al mandare una foto voleva dire mando un bonifico di 7000 euro. Sì, no, ma adesso non voglio fare il vecchio... Però sono d'accordo. Che dice, oh, è una cosa che fa parte della nostra società. Hai la possibilità di mandare e ricevere foto. Lo fai perché è anche sexy come cosa. Però se ci pensi ti toglie quel brivido del vado lì e vedo un po' come è la situazione, capito? Ma guarda, io ti dico questa cosa qua, infatti per me la sindrome... Sì, sì, versa, versa anche a me, guarda. La sindrome dell'Ipe in realtà... Scusa. Questa è una... Tranquillo, tranquillo. Anzi, il legno è molto più bello quando è cosporso da alcol. Mi sembra così. Il trailerismo, io l'ho sempre letto in un certo modo. Cioè per me è letteralmente un'autodifesa nei confronti della novità. Perché... E io credo veramente che questa cosa sia anche filosoficamente significativa. Perché noi siamo... Il discorso è molto ampio. Però se prendiamo gli ultimi trent'anni, ok? Gli ultimi trent'anni sono gli anni in cui l'Occidente come cultura è passata in breve tempo dalla certezza di aver superato i grandi traumi della storia, alla evidenza che la realtà aveva altri piani. 11 settembre, crisi del 2008, adesso questa cosa qua, la pandemia, insomma, sono tante, ok? Siamo più spaventati rispetto a trent'anni fa, ok? Siamo normalmente più incerti. C'è anche un motivo. Siamo più spaventati perché, allora, io non voglio parlare della cosa, ok? In sé. Voglio parlare di una cosa specifica. Quello che sta suggerendo in questi giorni ci ha fatto capire, senza entrare nel merito della questione, è solo per portare acqua al mio mulino, per così dire. Mi ha fatto capire una cosa. Noi osserviamo un evento del genere, per la prima volta, qualcosa che ci tocca anche a noi, sapendo tutto minuto per minuto. Non era così una volta. Guardavi il notiziero, ma non è... Cioè, qui noi adesso abbiamo i video delle vittime, non è una cosa che... Cioè, capito? Perché sai, purtroppo noi siamo la società del... È accaduto in Africa. Eh, vabbè. Non da noi. Questo accade vicino a noi. In una società occidentalizzata, vicina alla nostra, e quindi fa una certa sensazione. Il problema è questo. Noi siamo più spaventati, perché siamo... Cioè, comunichiamo costantemente. Non puoi essere troppo spaventato quando ti arrivano notizie di secondo e di terza mano. Ma quando ti arrivano le notizie da persone che stanno vivendo quella situazione in tempo reale, tu ti dici, cazzo! Certo. Io sono qui e quella persona è nello stesso momento lì e in questo preciso istante io la sto vedendo soffrire. Per forza, se vi siamo più spaventati. No, questo è legato al rapporto anche che abbiamo con la tecnologia e l'informazione. Però dall'altra parte, cioè, anche questo è una conseguenza di quell'insicurezza che sentiamo. Cioè, perché noi... Perché, allora, negli ultimi anni i trailer hanno subito un'inflazione enorme. Cioè, nel senso, 15 anni fa c'era il film che usciva, c'era un trailer, due trailer per i più grossi che uscivano a... Adesso c'è il teaser del teaser. Aspetta, c'è il teaser e col teaser escono video, podcast, analisi e vedi c'è. Poi c'è il secondo teaser, video, podcast. Esce il trailer, video, podcast, confronti con trailer. E noi... Sembra quasi una cosa schizofrenica. Perché? Perché questo noi lo facciamo per difenderci. Lo facciamo perché ci rassicura. Mi rassicura sul fatto che quello che poi andrò a vedere, in qualche modo corrisponderà a tutto quello a cui mi sono preparato. Se cosa... Però questo... Aspetta, concludo. Questo mi rassicura. Però poi quando vado a vedere quello che vado a vedere, la novità è quasi morta. Anche perché nel trailer, negli ultimi anni, io mi sono accorto, non so se tu sei della stessa idea, ma nei trailer hanno cominciato a mettere tutte le scene più significative. Allora... Mett'anni fa non era così. No, no, ti dico anche di più. Sony fa una cosa particolare. Se tu guardi un trailer di un qualunque film Sony blockbuster... Sì. Loro ti mettono sempre un frammento della scena post-credit. Sempre. Pazzesco. Sempre, sempre. Pazzesco, non l'ho notato. E io ti dico, quello che hai detto tu è molto... Tu sei più filosofo, io sono più terra-terra. Io questo lo chiamo comarismo. Perché succede questo? No, perché qual è la cosa che piace di più l'essere umano da sempre? Farsi i cazzi degli altri. Eh certo. L'essere umano vuole mettere bocca su tutto. Sì, sì. Quindi, io faccio video sul cinema, io devo commentare ogni cosa che esce. Anche la Piminex Correggia. Escono i posti da Sirianelli. Vai, commentiamoli. L'essere umano ha bisogno di comunicare. Poi quando si parla di appassionati, gli appassionati dicono, oh, voglio sapere cosa ne pensa lo youtuber che seguo di questo, così posso confrontarmi con lui e con altri appassionati sotto i commenti. Questo è comarismo, cioè, guarda che i video sui rumori, eccetera, è spettegolare, solo che lo fai sull'arte. Ma è quello. Sì, sì, sì. Il web, a seconda di questa tendenza dell'essere umano, ha esprimersi sempre e comunque su ogni cosa. Che sappia o non sappia le cose di cui sta parlando. Sai perché avviene questo qua? Mi hai fatto venire in mente, c'è uno studio che abbiamo citato anche qualche tempo fa su Daily Cogito. Perché ho fatto una puntata citando degli studi di un'università di Helsinki, mi sembra finlandese, sì. Grazie. Finirà malissimo, eh? No, no, andrà benissimo. Finirà malissimo, in cui hanno cercato di misurare il livello di fiducia all'interno dei luoghi di lavoro dopo la pandemia. È venuto fuori che la gente si fida molto di meno dei propri colleghi, dei propri capi, a causa dello smart working. Perché non hai più il contatto diretto con le persone, quindi non ti fidi più degli altri. E in questo articolo, in questo studio, dicevano una cosa interessantissima. Dicevano, che cos'è il gossip? Quindi il comarismo. Il comarismo, ovvero lo scambio di chiacchiericcio su quello, su quell'altro, su... è, ben lungi da essere una cosa negativa, è ciò su cui si fonda il fatto che io e te ci fidiamo. Perché se io e te ci scambiamo dei gossip su quello, si instaura un rapporto di... Certo, è antipatico nei confronti suoi, ovviamente. Ma si instaura un rapporto di fiducia, che poi valica in tutti gli altri campi. Cioè, se io e te ci scambiamo gossip, io mi fido molto di più del fatto che tu fai bene il tuo lavoro. Anche se poi magari non è così. Ma è normale. E questo è interessante, perché anche lo scambio di chiacchiere intorno a tutti questi avvenimenti ha un po' a che fare con la fiducia. Sì, io ti dico, la pandemia secondo me... Allora, noi siamo in una società, questo è il paradosso della società in cui viviamo, siamo più connessi di prima, ma molto meno empatici. Cioè ci mettiamo molto di meno, banalmente, nei panni dell'altro. Cioè, quando tu commenti un video, un post, ci sono persone che si sentono libere di offendere perché dicono, ma tanto, cosa mi succede? Non mi succede nulla, no? Certo. E non si mettono... Guarda, ti faccio un esempio molto semplice. Come quando mi fanno commenti sul fisico. Ah, sei ingrassato, ma sei qui a panza. Sì, però il punto è... Che bella, è sexy, la panza di piccolo è sexy. No, no, però tu dici, tu non sai perché io ho questa panza. Certo, ma io ho un disturbo alimentare. Non puoi saperlo. Quindi tu rischi gli offensi... Ci sono persone che sono state molto male per commenti di questo tipo, ok? E le persone che li fanno non pensano che questa cosa offendano. Tanto è un gioco, siamo... E quindi il web ci ha, secondo me, un po' di... Ci ha uniti, perché se non ci fosse... Tu immaginati la pandemia... L'avremmo superata comunque. Immaginate la pandemia negli anni Ottanta. Sì, sì, sì. Capito? Vedete magari i programmi televisivi tutto il giorno. Le videocassette. Così invece potevamo... Guarda anche solo come si è sviluppato Twitch. Perché si è sviluppato così tanto Twitch? Perché tu avevi l'illusione di essere con un gruppo di amici. Certo. Capito? Per noi che facevamo questo mestiere, la pandemia è stata una... Una manna dal cielo, da un punto di vista magari economico. Per me, da un punto di vista puramente personale, mi ha quasi devastato il cervello. Perché io lavoravo 16 ore al giorno. Certo. Ok. Quindi per me è stato... Cioè, ti dico, avrei preferito avere meno guadagni... E un po' più sanità mentale. Però l'ho fatto volentieri perché io vedevo che le persone quando facevo queste cose stavano meglio. Io dicevo, è una quasi responsabilità intrattenere le persone in un periodo di merda. Io avevo dei periodi, se posso aprirmi un po', io lo dico senza quelli... Siamo qua per quello. Io avevo... La mia compagna, la Svet, era molto spaventata dalla situazione. Allora, io ti dico, la mia più grande... Qual è la tua più grande paura, se si può dire? La mia? La tua. Concretamente? Sì, sì. Proprio quella cosa che se si avverasse... Avresti attacchi di panico ogni 12 secondi. Ehm... Se si può dire, Erika... Sì, no, no, sono tante in realtà, non ce n'è una sola. Però, siccome abbiamo tutti quella paura specifica, che è quella che ti uccide dentro, capito? Come per una... È come dire, un aracnofobico buttarlo in una vasca di... Di Taranto, hai capito? Sì, sì, ok, ok. Una cosa del genere. Lasciami qualche minuto, ci penso. Perché ne ho tante, devo selezionarne uno. Ti dico la mia. Da quando avevo sette anni. Trovarmi in una situazione di pandemia. Ah, per me questi ultimi due anni sono stati un incubo ad occhi aperti. Ok. Solo che non volevo... Cioè, io non volevo mettere peso sulla mia compagna, sulla Svet. Quindi cercavo di fare positivo. Io ho questa... Questa immagine di lei tutta spaventata, io che la tranquillizzo, lei fa, vai, tu fai la live, io vado a giocare. Lei va a giocare, ci sono io che sono crollato in un angolo singhiozzando. Io avevo una paura incredibile. È la cosa che io ho sempre avuto... Io sono un ipocondriaco, ma ho sempre avuto una paura terrificante. Io ho gli attacchi di panico durante la pandemia. Piangevo, stavo una merda e poi attaccavo la live. Ero tutto sorridente. Quindi lo facevo perché sapevo che tante persone stavano come me. E vedevo che queste persone traevano giovamento nel distrarsi quelle 4-5 ore con le live. Certo, certo. Quindi dicevo, mi distraggo io, ma soprattutto si distraggono loro. Quindi la pandemia ci ha anche uniti di più. Sì. Però ci ha anche distanziati perché è un'unione virtuale. Assolutamente. Non è esattamente la stessa cosa. E questo si ripercuote anche sulle arti. Sì, sì. Cioè tu... Prima parlavamo del trailerismo, il comarismo, questi neologismi. Il discorso qua qual è? Il discorso è che la pandemia ha cambiato tutto, anche cinematograficamente parlando. Cioè, durante la pandemia non avevi niente da fare. Quindi ti metto il trailer di questo, che tanto è stato rimandato questo film. Quindi abbiamo mesi, no? Ti dico, ci sono forse i tre Spider-Man in Spider-Man Away Home. Ma non si sa. C'è questo rumor. Hanno intervistato Don Andrew Belfi e ha detto di no. Però aveva una faccia strana mentre lo diceva. Sono tutte manovre di marketing. Siamo stati manipolati tantissimo. Non mi sembra... Devastante però. Non è ne... No, però il punto è... Li puoi biasimare? Cioè, lo avrebbe... Sì, perché... Attenzione, ma l'avrebbe fatto chiunque. Eh, no, ma... Questo è un tema... Comunque, prima di tornare a questo, ti dico... Due sono le paure. Che ti direi proprio mi manderebbero completamente fuori di testa. Una ne abbiamo parlato durante una puntata della scorsa settimana. È l'Alzheimer. L'Alzheimer mi manda fuori di testa. Perché io l'ho vista, l'Alzheimer. E io credo... Io presuppongo che... Io ho avuto mio nonno che è morto di testa. Ciò che mi... Eh sì. Ciò che mi... Eh, anche mia nonna. Io presuppongo che ciò che mi rende me stesso è la mia testa, prima del mio corpo. Ok? Perdere la testa è ciò che mi spaventa di più il mondo. È una parola The Father. Due parole. Eh, devo ancora vederlo. E devo ancora vederlo perché... Io ho visto Steel Alice. Allora... Ed è già... No, 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 no. Una mazzata. No, 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 no. Cioè, proprio Steel Alice è una roba fatta per prendersi premi. Carino. The Father... Io non so se tu è presente con me. Come è The Father? No, non l'ho proprio visto. The Father... Allora... Io non guardo più i trailer, quindi... Guardalo. No, no, no. Non l'ho visto neanche io il trailer di The Father. Io quando l'ho visto The Father... Io ho finito di vedere The Father e l'ho pensato... Oddio. Io con The Father l'ho sofferto come un cane, perché io l'ho visto mio nonno. È la degenerazione mentale, però vista dal punto di vista di chi sta degenerando. Sì, sì, certo. Ed è uno spettacolo teatrale. Nasce da lì. Quindi io vorrei vederlo, questo spettacolo teatrale. Guardalo in un momento in cui sei preparato, perché se hai vissuto come spettatore impotente queste cose ti fa... È come riceverlo... Cioè io che l'ho visto con mio nonno... Mio nonno non era propriamente Alzheimer, era demenza senile precoce, perché mio nonno... Io l'ho detto un'altra volta, io non posso dire qua, mio nonno purtroppo... Io avevo uno zio che aveva dei problemi mentali, perché era... Quando era ragazzina ha avuto un brutto esaurimento nervoso, ma erano gli anni settante, quindi purtroppo l'hanno messo in manicomio. Certo. E mio nonno non accettava questa cosa, quindi mio nonno purtroppo beveva. Questo suo bere lo ha portato a una... Demenza. Sì, in vecchiaia la demenza senile si è anticipata, aveva 73 anni, si è anticipata. Io l'ho visto... Io purtroppo... Era un uomo fantastico mio nonno, perché comunque anche se era spesso brillo, comunque con me è sempre stata una persona fantastica. Tra le altre cose io... I miei nonni erano immigrati calabresi, e quindi io capisco perfettamente il calabrese, perché loro non parlavano italiano, parlavano calabrese stretto. Per cui io lo vedevo sempre o brillo o ubriaco, oppure l'avevo visto malato, però è stato terribile vederlo degenerare in quel modo lì. Quindi quando io ho visto The Father, io ero continuamente con le labbra che andavano verso il basso, cioè continuamente quando hai il singhiozzo che ti... Certo. Perché purtroppo... Non volevo portare tristezza, la soluzione. No, no, ma ci mancherebbe, guarda che assolutamente... E con l'alcol io mi apro tantissimo, quindi... Però il discorso questo è... The Father è un film che se tu hai vissuto questa cosa... Ti distrugge. Quindi guardalo in un momento in cui sei preparato. Vabbè, cioè, allora io ti dico... Perché? Io lo voglio vedere... È bellissimo. Proprio perché... Cioè, allora... Qui si apre un discorso interessante, molto collegato a quello che dicevamo. Io nel cinema e nell'arte in generale cerco ciò che mi pungola in modo anche molto forte. Quindi tu mi hai appena convinto, una di queste serie guarderò sicuramente The Father. Lo rimando da un po', ma... Uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni. Geniale. A livello scenografico è geniale. Certo. E di nuovo, vedi, torna al discorso che facciamo prima. Perché uno degli aspetti del trailerismo è quello di prepararti a vedere quello che vedrai. È quello. Io faccio sempre un esempio. Ti faccio un esempio della mia vita personale, ok? Che è stato il momento della mia vita in cui ho detto, ah cazzo, l'arte è questa roba qua. Non so esprimere la parola, ma quando mi chiedono che cos'è l'arte, io racconto sempre questo evento. Io anni fa, il pubblico in parte l'ha già sentita perché l'ho già raccontato qualche tempo fa. Anni fa ero a Padova, ancora all'università, e un pomeriggio io non potevo tornare a casa perché stavano imbiancando le mura, ok, di casa e tutto quanto. Sono le mura della città. Eravamo fuori. Eravamo fuori. La città, esatto, imbiancata. Che cazzo di riferimento. E quindi io e un mio amico, diciamo, vediamo che mostre ci sono. C'era una mostra di impressionisti minori, europei, ok? Bellissimo. C'è una mostra minore, ok? Però, impressionismo bello, quindi andiamo a questo palazzo, che era Palazzo Zabarella a Padova. Andiamo, facciamo questo giro. È anche interessante perché scopro un sacco di piccoli artisti poco conosciuti, molto interessanti. Bellissima. Nell'ultima sala io entro e trovo la Salome di Klimt, la Giuditta 2, ok? Lì, pum. Sindrome di Stendhal pesantissima. Cascano tutte le appendici corporee. E' terrificante bellissimo quando succede. Io non so darti una descrizione, ma è come se avessi sentito qualcosa dalla mia testa cadermi fino ai piedi. Proprio questa è la sensazione. Perché non te l'aspettavi. Non me l'aspettavo. Se te l'avevessero letto nella locandina della... Era il mio quadro preferito. È sempre stato il mio artista il mio quadro preferito, ok? Non segnalato nel percorso di mostra. Lì, pum. Mi è caduto tutto. Sono rimasto pietrificato per tipo quattro minuti. Fermo lì, non riuscivo a muovere. Sì, non riuscivo a muovere. È quella. E lì ho detto... Porca puttana. Cioè, è questa l'esperienza artistica? È quella che non ti aspetti? È quella che ti colpisce? È quella che valica il mi piace, non mi piace? L'esperienza artistica è quella... Da adesso le cose non saranno più come prima. A me è successa una cosa identica. Quanto è successo? Allora, la mia opera preferita, quando ero alle superiori, era il gruppo dell'Auconte. Me lo sono trovato all'improvviso a un museo a Roma. Ero andato con la scuola, ero al liceo. E io ricordo che sono stato dieci minuti a fissare, perché non me l'avevano detto che era lì. Io sono entrato in questa stanza e l'ho guardato e ho detto, oddio! Perché poi era più piccolo rispetto a... Perché sai che nei libri non è che ti dicono le misure, ma non è che tu ti metti lì con il righello a vedere quanti sono. Certo. Quindi, per me è stata una... Io la capisco perfettamente. La cosa bella della mente umana è proprio questa. Che è facilmente impressionabile. Cioè, io poi sono uno che si impressiona con tante cose. Sento una musica che mi ricorda qualcosa dell'infanzia e mi viene una pelle d'occa che mi si solleva proprio... Il tatuaggio diventa alto così. Ti piace Teoden qua dietro? Sì, qui ho avuto i capezzolini turgi quando l'avevo visto, assolutamente, assolutamente. Si sono allungati di un paio di metri. Sì, sì, sì. Quando l'avuti nella circoncisione non c'era prima. Ma comunque, vabbè, per l'attrito nella mutanda. Ma non è questo il fatto. Il fatto qua è che io penso che l'essere umano sia una creatura straordinaria proprio per questo. Cioè, come ci può impressionare... Alla fine, quello che ti ha impressionato è un'idea. Perché quello che tu hai visto lì era semplicemente una tela. Hai ma un'esperienza. È pazzesco come una tela con su dei colori disposti in un certo modo possa crearti un momento di quasi estasi, se vogliamo. Io sono molto sensibile a queste cose. Io, ad esempio, quando ho visto il documentale l'altro giorno di Ennio Morricone. Io l'ho fatto con gli occhi così gonfi. Perché per me Morricone è stato un vero maestro. Io, tra l'altro, avevo conosciuto anche uno delle persone che è dentro il documentale Alessandro De Rosa. Che aveva scritto un bellissimo... Lui aveva fatto un'intervista che è stata poi sbobinata. È diventato un libro che si chiama Inseguendo quel suono. di qualche anno fa, che è un libro intervista a Morricone. Un po' come quello che fecero a Hitchcock, quello che fece Truffaut, che è una delle mie opere preferite. Perché io lo scoprì al liceo, quello di Truffaut, il cinema secondo Hitchcock. Bellissimo, bellissimo libro. Bellissimo, più che altro perché è un artista che si racconta. Non c'è niente di meglio di un artista che... Ecco, lo dico a chi ci ascolta. Se volete leggere un libro sul cinema, l'intervista di Truffaut a Hitchcock... Perché lì è un regista, che era anche critico, che intervista un altro regista. Due rappresentanti di due correnti completamente diverse. Posso dirti una cosa? Cioè, te lo dico così, quando io ho pensato al format delle cogitate, io ho pensato a quel tipo di... cioè, a quel tipo di dialogo. Io ti dico che mi sto divertendo tantissimo. Sono contento, però io ho pensato a quel tipo di dialogo. Mi diverte molto perché molto spesso la gente dice Ah, ma è un'intervista in cui fai parlare troppo poco l'ospite. Non è un'intervista. Cioè, nel senso, è proprio un dialogo. Ok, quindi ricordatevelo. Leggetelo con gli uro, bellissimo. In questo momento noi due stiamo andando in un flusso di coscienza. Con me, io mi rendo conto che con me è difficile stabilire un argomento. Perché io divago tantissimo. Perché questo è il bello. A me piace l'idea dei percorsi. Io poi, tra le altre cose, i percorsi mentali mi piacciono. Perché io ho studiato un po' di neurolinguistica quando ero all'università. E mi ha sempre affascinato. Perché comunque noi del cervello non sappiamo quasi nulla. In realtà sappiamo pochissimo. Quindi il cervello può fare delle cose straordinarie. A me piace l'idea che l'arte sia in grado di emozionare così tanto. Perché non è tanto l'opera in sé. È l'idea che l'opera rappresenta. Cioè, ci sono... Tu mi vuoi uccidere? Sì. Voglio dire a Twitch che questo in realtà è te. Sì, è te. È te la pesca infuso. È te la pesca infuso, assolutamente. E lo Fract ne sa qualcosa. Assolutamente. Qui si sta facendo il remake di una cosa che mi hai detto un po' prima. E niente, quindi... A me affascina tantissimo. Io ho sviluppato un nichilismo negli ultimi anni. Nel senso che io... Sì, ho sviluppato un nichilismo perché io sono giunto alla conclusione che noi siamo, alla fine, degli animali estremamente evoluti. Un po' spaventati dalle cose. Certo. Che si arrabattano come possono. Ma abbiamo questa straordinaria propensione all'arte. Ad esempio io penso alla musica. Che è una roba che a livello... Cioè, se ci pensi bene alla musica, è una roba semplicissima. Che diventa complessa perché noi poi ne studiamo le sfumature. La stessa cosa è l'arte. Noi siamo arrivati ad un punto in cui abbiamo esteso l'arte a tante cose. Quello che facciamo noi è intrattenimento. Ok? Sì. Però noi parliamo spesso di arte. Parliamo di cinema, tu parli di filosofia. Quindi è bello come... Noi siamo i rappresentanti di un'evoluzione di quello che è lo studio delle arti. L'abbiamo portata sul livello del dialogo. E a me piace tantissimo l'idea che questo nostro bisogno umano di dialogo sia rappresentato così in questo modo ogni giorno. Adesso, ad esempio, immagino, ci siano tanti commenti in chat, suppongo. Sì, sì, si stanno chiacchierando molto. È bella questa cosa. Qualcuno ha detto che mi ha conosciuto attraverso il video che abbiamo fatto a Lovecraftian Nights su Blade Runner 2049. Mamma mia, mi ricordo questa cosa. Un video fenomenale. Mi ricordo. Però capito, è questa la cosa bella. Cioè, cosa può fare... Cioè, noi abbiamo bisogno di riunirci in comunità, alla fine. Certo. Perché tu hai la comunità che tratta di filosofia... Cioè, tu tratti di tanti argomenti, ma sempre dal punto di vista filosofico. Certo. Io trattavo di cinema in un modo tutto mio. E questo è il bello. Cioè, noi abbiamo questo bisogno di unirci, di dialogare e di dire la nostra su tutto. È un po' questa la cosa. Ed è per questo che è nato il concetto di hype. Perché le major l'hanno capito. Le major l'hanno capito e dicono, ma questi c'hanno tanta voglia di parlare, no? E allora, vaffanculo, ma diamogli l'occasione di parlare. È vero. Sono furbi. Allora provo a porti questa questione. Ok? Perché io sono d'accordo con te. Cioè, per riassumere quello che hai detto, peraltro questo incredibile volopindare che mi hanno fatto da Batman fino a Klimt, mi è piaciuto tanto. Ormai io proprio i binari mentali li ho abbandonati da 10 minuti. Mi è piaciuto tantissimo. Con dei pennelli. Cioè, proprio figo, figo. Sono venuto a fare un sacco di cose fighissime. Però ti pongo un'obiezione. Certo. Siamo d'accordo sul fatto che questa cosa esiste perché noi siamo strutturati in un certo modo. Poi torniamo sul discorso nichilismo, perché quello mi interessa, però lo mettiamo da parte per un secondo. Sono d'accordo sul fatto che noi siamo presi da questa cosa perché siamo costruiti in questo modo. Abbiamo bisogno di comunità, abbiamo bisogno di condivisione, abbiamo bisogno di appartenenza. Dobbiamo sentirci dentro un gruppo. Il problema è che questa cosa qua ci dà tantissime cose di cui parlare, ma pochissima felicità. Perché dico questo? Perché, di nuovo, io ho la deformazione filosofica. L'appartenenza, far parte di un gruppo in questa epoca significa che io parlo di qualcosa o fruisco di qualcosa non perché veramente mi interessa. Cioè perché la mia interiorità è attratta da quella cosa. Ne fruisco e ne parlo perché tutti ne fruiscono e tutti ne parlano. Questo è necessariamente volto a essere infelici. In che senso? Nel senso che tu non ti poni più la domanda, ma questa roba mi interessa veramente. Ti faccio un esempio che ho fatto qualche mese fa. Quando è uscita Squid Game, io ti giuro che non è mai successo che io ricevessi così, tanti messaggi, di gente che mi diceva Rick, devi parlare di Squid Game, cosa ne pensi di? Hai visto Squid Game? Io, devo essere onesto, io ho visto due puntate di Squid Game. La prima l'ho vista, mi sono addormentato a metà, l'ho rivista fino alla fine. E ho visto che io do sempre una seconda possibilità alle cose. Ho visto anche la seconda puntata, mi sono addormentato a metà e ho detto sta roba non fa per me. Perché per tanti motivi, perché la recitazione coreana di quel tipo non mi piace. Ah, io vado pazzo, ad esempio. Eh, lo so, perché è una questione di gusto estetico. Gusto, gusto. Perché quello che veniva raccontato mi sembrava già visto in tante altre cose. Lo è. Ok. E fece anche delle battute, una battuta su Instagram dicendo secondo me Squid Game è Takeshi's Castle, che però non ce l'ha fatta, ok? Ho fatto incazzare della gente. Gente che mi diceva, ma come ti permetti? E io dicevo, ma sta calmo, c'è una battuta. Guarda, il fatto che la gente si incazzi così tanto per una serie, io l'ho sempre trovato assurdo, però. Ci sta, ci sta, ci sta. Quindi, per arrivare poi alla questione che voglio porti, il problema è il seguente. Io, Vic, avrei avuto, guarda, il mio video su Squid Game avrebbe tranquillamente fatto le sue 80, 90, 100 mila più, tranquillamente. Però, non me ne frega un cazzo, cioè, per me, il mio lavoro mi serve ad essere felice. Io ti giuro, ma guarda, non sto, non c'è nessun altro obiettivo che io mi dia nel mio lavoro se non parlare di ciò che mi rende felice nel modo in cui mi rendo orgoglioso. Però io ci sto per fare una domanda importante. Dimmela. Ma cos'è la felicità per te, scusa. Che cos'è la felicità? La felicità è ascoltare la propria interiorità e andare verso ciò che corrisponde a ciò che ti sembra essere quell'interiorità. Io ho un'altra visione di felicità. Dimmi. Felicità è quando, io capisco che sono felice, io sono molto materiale, quando non sento di avere bisogno di altro. Negli ultimi periodi è molto difficile farmi un regalo, perché io non ho, veramente, io non ho bisogno di niente. È quando non sento più il bisogno di nulla. Da cosa nasce quel bisogno? Il bisogno, secondo me, è una mancanza che hai, un vuoto che hai dentro. Ad esempio, quando io sono infelice mi compro qualcosa. È una vita che non mi compro qualcosa. Cioè, mi sono comprato una cosa, ma perché la volevo? Non per colmare un vuoto. La volevo, mi ho comprato un paio di settimane fa una statua di The Batman, perché ho detto cazzo, questa la voglio assolutamente. Però non era per colmare un vuoto. Certo. Io sono materialista in una maniera incredibile, capitalista, materialista, consumista. Ci piace. Va bene così. Sì, ma non me ne frega un cazzo che mi piace comprarli. Io quando dico, ah, sei un consumista? Sì. Mi piace comprare le cose. Tipo, io sono felicissimo che dopo mi mangiare l'hamburger. Sei un consumista? Non me ne frega un cazzo. Voglio l'hamburger e basta. Va bene essere consumista. È bello. Quindi, il discorso è, quando però io avverto di non avere più bisogno di nulla... Ti piacciono i soldi? No. No, no, no. No, no, no. Senza soldi non puoi... No, gli piacciono i peni. Ma no, Rick, gli piacciono i peni. Tantissimo, tantissimo. Io, lo ripeto, ho un grandissimo rispetto per il cazzo. Rispetto per i peni. Rispetto a Magnolia. Rispettate il cazzo. Ho questa... Rispetto a sto cazzo. Quando mi chiedono, perché io sono un po' raffinato in modi... Mi chiedono, ma sei omosessuale? Dico, magari. Perché io nutro un rispetto infinito per il pene, capito? È una cosa solo estetica. Mi piace la che sverta. Chiuso questa parentesi penica. Cos'è la felicità? La felicità. Allora, il punto è questo. Tu mi hai detto che mi piacciono i soldi. In realtà, il punto è... La questione soldi... A me non me ne frega niente di avere tanti soldi. A me basta avere i soldi... Giusti. ...che mi servono... Certo. ...per fare quelle cose. A me piace uscire ogni tanto, farmi una vacanza anche di un weekend, mangiare fuori ogni tanto. Posso farlo. A me, se mi dici... Ti do un milione di euro. Ok, perché io sono felice anche con molto meno, capito? Ti faccio una domanda, poi. Perché questa domanda della felicità è molto, molto centrale, molto complicato. Allora, la domanda che ti faccio è... Tu dici... La mia... Perché quello che hai detto può essere due cose diverse. La prima è... La mia felicità non dipende da quello che sta esterno a me. Esatto. È questa? In un certo senso, sì. Nel senso che, ovvio che, sì, esterno a me ci sono delle situazioni di crisi. Ok. Ne va, ovvio. Però, ti dico, non è neanche una questione di esterno, è una questione di... Non è neanche una questione di egoismo. Perché io sono infelice se le persone che ho accanto stanno male. Ok. Mi spiace tanto, cioè che non riesco a essere sereno. Certo, certo. Però il punto è, per me, il punto è che in questo... Nella nostra vita, quello che purtroppo ti dicono che conta, è che effettivamente con te, poter sopravvivere. Cioè, cosa significa sopravvivere? Arrivi a fine mese e ci arrivi bene? Stai sopravvivendo. A me non me ne frega niente di avere i soldi per comprarmi uno yacht. Ho i soldi per fare quelle cose che mi piacciono. Certo. Basta così. Io sono felice con... Adesso non dico... Per dire, se io avessi 50 mila euro in banca, ma non ho spese particolari, eccetera, sono tranquillo. C'è capito? Non servono i milioni per essere contenti, per essere felici. A me non servono. Perché io sono di gusti semplici. Io non ho bisogno di comprarmi cose costose, non ho bisogno di addobbarla a casa con cose eccessivamente... che richiedono troppi soldi. Non ho bisogno di farmi il giro del mondo in crocella. Non me ne frega niente. Io sono molto semplice in questo. Però la domanda fondamentale è... Delle cose che hai attualmente... Quali? Da quali di queste dipende la tua felicità? Nel senso, se perdessi una di queste cose... La sicurezza economica. Ma ti spiego perché. Sembra una cosa veniale, ma in realtà non lo è. Perché la sicurezza economica purtroppo ti controlla la vita. Se tu devi stringere la cinghia... Non puoi fare delle cose che vuoi fare. Sì. Non puoi... Non puoi proprio magari raggiungere degli obiettivi che ti sei posto. Però allo stesso tempo io sono convinto che la vita è un ciclo. Continuo. Adesso i soldi magari li posso avere. Io non sono ricco assolutamente. Però ho esattamente quello che voglio. Cioè è quello che mi serve per essere tranquillo. Altrimenti saresti Richtor Laszlo. Richtor Laszlo. No, Richtor Laszlo sembra una fusione tra me e te. Però ho capito. Però io sono preparatissimo a un momento di crisi. In cui penserò, Cristo ha perso tutto. Io sono una persona che quando perde tutto... Cioè mi è capitato di non avere soldi. Ma anche di avere... Perché il punto è, sono due le cose che ti creano infelicità, ma che ti creano problematiche. Quando non hai sicurezza economica è quando non hai la salute. Certo. Perché io preferisco non avere sicurezza economica ma avere la salute. Che avere sicurezza economica e la salute. Ovviamente. Ok. Però quello che hai appena detto... Allora, quando io ti ho chiesto qual è tra le cose che hai, quella che ti farebbe eventualmente perdere la felicità. La sicurezza economica. Perché è quella che poi fa dipendere tutto il resto. Quindi, se venisse meno quella, non saresti più felice? No, ma attenzione. No, non dipende da quello. No, no. Non sarei più felice. Ma ho una cosa che mi salva. Io sono estremamente determinato. Non mi faccio battere da un cazzo. Cioè, mi è capitato, eh. Il problema di mancanza di sicurezza economica. Fa niente. Io sono uno che si impegna molto in quello che fa. Io sono dell'idea che adesso ho questo lavoro ed è una cosa bellissima. Dovesse succedere qualcosa. Io vado anche, veramente, a sparare la merda degli elefanti al circo. Non è questo il problema. Cioè, non mi ha mai spaventato il lavoro cosiddetto umile. Io trovo che nessun lavoro è umile. Cioè, per me l'idea di lavoro umile è una cosa che non mi è mai piaciuta. Il lavoro è il lavoro. Cioè, il lavoro pesante, il lavoro più leggero. Per esempio, quello che facciamo noi, molti... Ma ancora c'è gente che dice, ah, ma non è un lavoro vero. Stop par de bal. No. Venite a vedere quello che facciamo qua ogni giorno. Guarda che il nostro lavoro è qualcosa che rischia di farti esaurire se lo prendi in maniera sbagliata. Ricordiamoci da questa cosa. Quindi io sono molto determinato. Non sarei magari felice, ma non mi potrei definire neanche infelice. Perché il punto è che finché so di poter avere me stesso e la mia determinazione, non sono mai totalmente infelice. Ecco, è questo allora il punto. Cioè, perché questa è la cosa che veramente... Però non sarei felice, eh. Attenzione. Ok, però faccio riferimento, per esempio, non so, Seneca dice che la felicità, quella vera, quella che non perdi, è quella che non dipende da condizioni esterne a te. Ok, in quel senso allora sì. Cioè, questo è il punto. Perché, per esempio, quando tu mi hai chiesto cos'è, la felicità per me è credere in me stesso, cioè letteralmente. Ma quello per me è scontato. Cioè, capito? Non è scontato, eh. Guarda che è una cosa difficilissima. No, 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 non è capito, non per me, nel senso che io... Quando si parla di me, io non ho mai avuto una grande autostima. Ma sotto sotto ho sempre creduto in me stesso. Ma allora non sei nichilista, che cazzo dici? Aspetta. Il nichilismo deriva da un'altra cosa. E deriva sulla considerazione che ho delle persone. Ok. Non delle persone, degli esseri umani. Ah, spiegami, spiegami. Nel senso che io mi rendo... Ragazzi, siamo al settimo amaro nonino e... Ma io ti chiedessi... Io ti devo spiegare una cosa del mio fisico. Io l'alcol lo smaltisco in una maniera fisiologica. Ho paura di sapere quello che stai per fare. Se ti chiedessi di smaltire dell'alcol per te... In che forma? In liquida. Se ti chiedessi di smaltirlo per 30 secondi, sarebbe un problema? Devo andare al cesso. Vai, vai al cesso. Arrivo subito. Arrivo in mezzo. Io adoro questo momento. Adoro questo momento. Adoro questo momento. Devo smaltirlo. Ragazzi. No, io pensavo che si togliesse tipo una bombola. No, pensate, adesso tira fuori il cazzo e ce lo sbatte qua. Ed è tutto finito. No, è di questo. No, è di questo. Altra che Pattinson. Pattin. No, io pensavo che tipo, non so, avesse una capsula dove tipo aveva già tutte le scorie e semplicemente la cambiava. Allora. Allora. Quest'oggi parliamo di cazzi. Vabbè, va così. Credevo un ruttazzo. L'ospite se ne è andato e scappavi che è scappato. Ah, bellissimo, bellissimo. Momento spettacolare, sono d'accordo. Intanto fumo! Intanto, beh, sì, sono d'accordo. Ci vuole un po' di fumo. Allora, ragazzi, ne approfitto per dire una cosa fondamentale. Domani, dalle ore 14.30, qui dai Cogito Studios, facciamo la... Iniziamo la Blind Run. Perché 14.30? Perché prima devo mangiare e poi devo ruttare, poi devo cagare e poi veniamo in live. Facciamo la live su Elden Ring. Oh, yes. Elden Ring. Domani, se volete sentire un Veneto che bestemmia in live e cercherà di trattenersi e di bestemmiare, domani è il momento giusto. Non c'è fine. No, faremo 5 ore di live, quindi dalle 14.30 alle 19.30 e ciao. Eccolo, eccolo, tornato a noi. Grave errore, Darmina Amaro. Comunque, anch'io non vedo l'ora di iniziare Elden Ring, tra l'altro. Io domani in live, guarda, però non lo giocherò tutto quanto. Facciamo domani 5 ore e poi vediamo se la settimana prossima... Sì, anch'io pensavo di fare una cosa del genere, cioè che lo provo per un po' di... Anche perché io purtroppo sono molto bestemmioso quando gioco a questi giochi. Io cerco di trattenermi, beh, sei in Veneto, quindi... Non riesco. Cioè, ci ho provato ieri con Capedma. Sai che sono entrato, è stato bellissimo. Un giorno... L'ho detto anche a Fede. Allora, entro in live da te, stavo facendo una pausa prima di andare in live. Entro, ah, c'è Vicky in live, guarda, guarda, stavi giocando a GTA. E io ero così e dicevo, cazzo, ma Vicky è peggio del massimo. Sì, me lo dicono in tanti. Io non ho fatto per... Per lungo tempo non ho fatto live sul gaming. Mi fa, perché non ho fatto live sul gaming? Perché io purtroppo bestemmio molto. Non riesco a prescindere la cosa. Cioè, ieri ho detto, non voglio bestemmiare con Caped, un paio me ne sono partite. Vado di là da Fede e gli dico, Fede, ho scoperto che Vicky... Il mio più grande problema è la rabbia. Io quando mi incazzo sono veramente... Vado in modalità bersa. Bellissimo. Che cosa ti arrivi, sì, sì. Comunque, comunque, torniamo a noi. Diciamo... Il nichilismo. Nichilismo. Allora, il nichilismo... Perché tu hai detto, io credo in me stesso. Ed è quello che fonda la mia felicità. Eh, attenzione. Dimme. Il nichilismo, lo so che, filosoficamente parlando, il nichilismo è non credere... Cioè, sostanzialmente quando non credi neanche in te stesso. Non c'è altro senso. Non c'è altro senso. Niente. Ecco, no. Cioè, nel senso... O meglio, sì. Ma io ho una visione del nichilismo leggermente diversa. Cioè, il nichilismo è quando vedo le cose intorno a me mi sembrano chiarissime. Sì. E vedo che alla fin fine siamo degli animali molto spaventati delle cose. Sì. Che danno importanza alle stronzate, sostanzialmente. E quindi io, da quando ho iniziato a pensarla in questo modo, io mi rendo conto che faccio un sacco fatica a rapportarmi con le persone. Nel senso che io, tipo, con gli utenti cerco sempre di rapportarmi bene, voglio un sacco di bene alle persone, però c'è sempre queste... Beh, non verso specifiche persone, verso proprio l'essere umano. Ma a volte mi chiedo, ma che senso hanno le cose? Cioè, nel senso, tutto quello a cui diamo importanza nella società, alla fine è qualcosa che non è necessario. Gli diamo importanza perché abbiamo bisogno di avere qualcosa in cui credere. Beh, però... È un po' questo che... Però, 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 però... Io non sono filosofo, quindi sto dicendo probabilmente un mare di stronzate ai tuoi occhi. No, in realtà è una cosa interessante. Abbiamo seccato la bottiglia. Sì, sì, ma infatti adesso la secchiamo del tutto. No, ma in realtà, cioè, filosofia significa che qualsiasi cosa è discutibile. Certo, certo. Quindi discutiamo di questo. Ehm... Sì, beh, letteralmente è quello il signore. Ehm... Tu dici, mi sento nichilista, perché quello che fonda le nostre relazioni sociali è transitorio. O è una cazzata? Non è che transitorio è una cazzata. È inutile. Inutile, ok. Cioè, non è necessario. È una cosa di cui potremmo tranquillamente farne meno, ma non possiamo farne meno, perché è la nostra natura. E quindi siamo costretti a trovare significato in cose che teoricamente potrebbero anche non averne. Ma il fatto che noi diamo significato alle cose, ok? Il fatto che io, non so, la relazione che ho con Arianna e tu con Svet, o la relazione che abbiamo con i nostri genitori, o con l'amicizia, vi dicendo, diamo un significato. Certo, io sono contento di poter dare un significato alle cose, ma so che non è necessario. Ma il fatto che non sia necessario... A me va bene darlo, eh. No, no, certo, certo. Ma il fatto che non sia necessario, come cambia il fatto che tu in questo momento stai dando quel significato. Mi rende una persona pensante. Hai usato un termine, che è quello di natura, ok? Io sono d'accordo, noi siamo degli animali. Sì. In quanto tali, ti dico perché io non sono l'ichilista, ok? Noi abbiamo una storia. Certo. Abbiamo una storia evolutiva e culturale. Bellissima, tra l'altro. Che dà significato a quello che facciamo noi. Cioè, il motivo per cui io, io sono un determinista, ok? Certo. Sono un determinista, il che significa che per me, in questo momento, le parole che esprimo non potrebbero essere diverse, perché sono legate al modo con cui in passato qualcosa è accaduto e mi porta a dire, a gesticolare in un certo modo, ok? Sì. Il che significa che il significato che io do a questo momento che stiamo vivendo, o all'amicizia con fede, o al rapporto col pubblico, è legato a qualcosa di molto concreto, ovvero alla storia che sta alle mie spalle, che è vastissima, di cui io sono soltanto la propagine più superficiale. Attenzione, perché io nichilista nel senso che, non è che sono nichilista nel senso che io penso che tutto questo sia inutile. Sono nichilista, cioè ho un approccio quasi nichilista, nel senso che mi rendo conto che tutto ciò non è necessario. Ma mi va bene che ci sia. Cioè nel senso, è una questione, è come se io fossi spettatore e dicessi, vabbè, salgo a bordo, e mi va benissimo. Però ad esempio, io sono, c'è una frase che io trovo molto filosofica, di un autore che io amo alla follia, che è Luigi Pirandello, del Fumatia Vascal, quando lui parla con il prete e dice che noi siamo erranti su questo granello trottolino che gira, su questa trottolina impazzita che è la terra. Io lo vedo così, nel senso che sì, è così effettivamente. ovviamente, però mi va bene. Cioè io, il punto non è il penso che sia inutile, no, no, riconosco, è come se avessi avuto l'epifania, che dici, cazzo, non ha un gran senso, però va bene. Ok. C'è capito, lo accetto. Però non è nichilismo questo, eh. Non lo so, siccome è nichilismo nel momento in cui, cioè a me va bene, però c'è sempre questa consapevolezza come radiazione di fondo che gli fa dire, capito? Cioè quello che stai descrivendo è una sorta di relativismo. Sì, io ripeto, non sono filosofo, lo chiamo nichilismo perché è come se fossi uno spettatore nichilista, nel senso che mi rendo conto del nichilismo, ma me ne sbatto il cazzo. Cioè l'idea è, prova a descriverlo così, tu dici le cose vanno così, lo accetto e mi potrebbero essere in tutt'altro modo. Io sono molto empatico, cioè attenzione, non è che sto dicendo che rifiuto tutto questo, io l'abbraccio, a me piace avere a che fare con le persone. Io sono il primo ad avere bisogno di aprirmi, ad avere bisogno di dialogo. Cioè io in questo momento mi sto divertendo come un matto. Bene. Ti sto rovinando il format, mi dispiace. Però non so il pubblico cosa sta dicendo, tra l'altro è bellissimo poter parlare senza preoccuparsi della chat. E quanto è bello. È meraviglioso, veramente, lo devi farlo più spesso. Andate a fanculo. No, io voglio venire a tutte le chat, sei un mostro, veramente. Sto scherzando, sì è vero, sono un mostro. Mi disegnano così, però sono più bravo di quello che mi dicevo. Adesso sono lucido al 75%. Che pottimismo. Coglione, io che vengo in Veneto comunque. Cosa mi aspettavo di venire in Veneto e stare sopra? Un lombardo che viene qua dice al 75%. Allora, attenzione, io ho un rapporto con l'alcol che è fantastico, quindi per cortesia... Abbiamo visto. Ma tra l'altro, ecco, ad esempio, parliamo di questa cosa un secondo, no? Quanto è divertente questa cosa che noi ci avveleniamo per divertirci? È bellissimo. Vorrei dirti che vivere è avvelenarsi in tutto e per tutto. Sì, però questo è un veleno serio, cioè nel senso che non è un veleno filosofico, questo è proprio veleno. Però vedi, però vedi, cos'è? Il veleno è sempre... Allora, il veleno non è mai veleno completamente. A meno che qualcuno ti avveleni. Il veleno è sempre qualcosa, è uno scambio. Sì. L'alcol, ok, è un veleno. Sì. E un lubrificante. C'è un bel... Beh, l'ha visto sicuramente il film. Un altro giro. In questo momento, forse in te, doserei moltissimo le parole che utilizzi. Sì, sì, le sto dosando perfettamente. Non abbastanza, secondo me. Infatti, mi dissocio completamente da quello che ho detto. Ma il film di Verhoeven, l'ultimo... L'altro giro. Ah, l'altro giro. L'altro giro. Non è di Verhoeven, però. Non è di Verhoeven, sì, certo. È quello con Mads Mikkelsen. Ma non è di Verhoeven. Non è di Verhoeven. Non che io sappia. Verhoeven è olandese, quello è danese. No, quello danese, com'è che si chiama? Druk. Ma non è di Verhoeven? Verhoeven è olandese. Chi l'autore? Non mi ricordo assolutamente. Ha un nome danese, quindi non me lo ricordo. È sempre Ver qualcosa, mi sembra. Non mi dico... Winterberg. Winterberg! No, Verhoeven. Winterberg è il sospetto. Il grandissimo. Perché lui ha un rapporto molto stretto con... In questo film, in questo film si descrive... L'hai visto? Minchia, se l'ho visto. Ok, bene. Esatto, esatto. È un film che ho amato alla follia. Un film fantastico. E lì viene appresa proprio la filosofia di Kierkegaard in Vino Veritas. Ok, e lui dice... Qualsiasi veleno... Allora, perché qualsiasi veleno è uno scambio che può portarti a qualcosa di positivo? Perché la vita è il veleno. Ok, cioè la vita è il veleno. Vivere significa... Avvelenarsi un po'. Avvelenarsi. Mangiare, ok. Mangiare è avvelenarsi. Perché tu, quando mangi, avvii processi metabolici. Noi siamo dei giganteschi sacchi di carne che scambiano sostanze con l'esterno. Esatto. E siamo preda dell'entropia. Ok, quindi non c'è nessun tipo di problema all'elvenenarsi. Ah, io trovo che l'essere umano... Mi dissocio. No, assolutamente. Io trovo che l'essere umano sia una creatura straordinaria. Ad esempio, io trovo molto interessante il rapporto che abbiamo con il sesso. Ok, ok. Io sono un grande... Cioè, l'essere umano adesso... Sei un grande amante del sesso, l'abbiamo capito dal tuo rapporto con i piselli. Sì, no, però io sono eterosessuale, quindi mi piace molto... Cioè, rispetto il pene... Allora con le piselle. Hai un grande rapporto con le piselle. Però ti dico, il punto è questo. Io apprezzo tantissimo il fatto che noi abbiamo... Cioè, mi piace l'idea che noi siamo portati, no? Alla... Cioè, il sesso per noi non è solo riproduzione. Ok? Ci sono pochi mammiferi come i delfini e pochi altri che utilizzano il sesso come scambio sociale. Perché questo è il sesso, alla fine. E mi affascina molto come il sesso, da sempre, sia il motore di ogni cosa. E io sono dell'idea che... Noi parliamo troppo poco di sesso. No, perché il punto è questo. Il sesso è ancora un tabù. Ci piace pensare che non lo sia. Però ho visto un TikTok di una ragazza... È un TikTok semplicissima. Questa ragazza molto bella, molto procace anche. Che diceva, se dico che faccio pornografia, tutti mi chiedono, ma dove, come, qual è il nome? Ma se dico che ho OnlyFans, tutti dicono che sono quella roba lì. È interessante. È molto interessante questa cosa. Perché noi abbiamo un problema con la mercificazione del sesso. Cioè, noi viviamo in un'epoca in cui adesso la sex worker è una professione molto diffusa. perché ci sono tanti tipi di sex working. C'è la prostituzione, che viene definito il mestiere più antico del mondo. Perché? Ma perché? Perché il sesso è da sempre quello che ci muove. Perché il sesso ci dà la vita. Il sesso può diventare un chiodo fisso. La cosa interessante è che adesso siamo in una società in cui puoi fare la sex worker, ma non è totalmente accettato. Certo. Lo trovo molto interessante. Sul tratto di morale, moralismo. Esatto, moralismo. Poi c'è tutta una questione, diciamo che le religioni hanno una grossa parte in tutto questo, perché moralizzano molto il sesso. Io trovo che il sesso sia la cosa più naturale e bella che esista nel mondo. Cioè, quanta felicità ti può dare il sesso in un momento anche brutto. Cioè, è l'espressione massima della vita. Anche se non stai usando a scopo riproduttivo. Poi anche a livello chimico fa bene. A livello medico fa bene. Ma perché è una cosa così bella? Una cosa così pura? Che può essere anche sporca. Poi anche lì, cosa vuol dire sporco? È una cosa tutta mentale. È una cosa che viene da noi. Come puoi definire sporca una cosa così naturale? Una data posizione può essere definita sconcia. Perché? Alla fine è una posizione meccanica, se ci pensi. Hai tutto lo sostrato culturale, eh? Però mi affascina moltissimo i sostrati che abbiamo creato su una cosa così fottutamente semplice. Ma per me la risposta è molto semplice. Cioè, nel senso, è molto chiaro perché noi rendiamo il sesso un tabù. Dammi il bicchiere. È perché il tabù, il sesso, è letteralmente il contrario della civilizzazione. Da un punto di vista molto molto chiaro. Cioè, la civilizzazione, se ci pensi, quella che chiamiamo civiltà, è l'accatastarsi di maschere e proiezioni. Sì. Di rappresentazioni. Ok. Cos'è la civiltà? Il linguaggio. Ovvero il simbolo. Parini diceva che quando si iniziano a seppellire. Il foscolo, il foscolo. Il foscolo. Parlando di Parini, quando si iniziano a seppellire i morti. Perché? Perché la sepoltura dei morti è il momento in cui mettiamo il maggior numero di simboli. Eh certo. La lapide, le iscrizioni, le preghiere. Ma quanto è bello tutto questo? Certo. La civiltà è simbolismo. Il sesso è la negazione di qualsiasi simbolo. Sai perché secondo me il sesso è tabù? È molto semplicistica. In chat mi insulteranno. Non lo so. Perché il sesso è uguaglianza. E noi l'uguaglianza non piace molto. Cioè, pensaci bene. Eh, però sì. Non so, eh. Non so l'uguaglianza. Se parli di misure o cose varie, grazie a cazzo. Letteralmente. Io, 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 non so. No, più che altro che se ce l'hai uguale al tuo compagno è un problema. No, ma non è, vedi, perché dovrebbe essere un problema? Ma quanto sarebbe bello se fossimo tutti pansessuali? Però, a me piace, sarebbe bellissimo. Perché, per il punto è che il sesso è uguaglianza. Nel senso che sai che c'è la famosa frase, siamo tutti uguali nel momento in cui siamo orizzontali. Però, però, è una frase stupida, però dice tanto. Nel senso che il sesso è ciò che dà la vita all'essere umano. Sì. Nel sesso tu stai proprio riproducendo l'atto della vita, che poi non viene quasi, cioè, molto spesso viene utilizzato solo come atto ludico, se vogliamo. Cioè, nel senso che molti fanno sesso anche protetto, no? Quindi. Soprattutto. Sì, 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 assolutamente. Cioè, il sesso riproduttivo è una percentuale infima. Infima, perché il punto è che io non credo in Dio. Però, se veramente... Ma Dio crede in te, scusami. Non credo. E se crede in me fa molto male. Ma il punto è, se Dio, se esistesse un Dio, Dio è infallibile. E con il sesso ha fatto una cazzata, però, eh. L'ha reso troppo divertente. Sì, perché a un certo punto tu dici, ma scusami, ma io questa cosa la posso fare anche senza fare figli. Aspetta un attimo che trovo il modo... Sì, certo. E ha fatto... Cioè, se Dio è onnipotente, non lo so. Perché secondo me, però io sono fatto una cazzata. Sai che io sono proprio dell'opposta posizione rispetto a me. Mi piace molto questa cosa. Perché, Rick? Perché il sesso è proprio il contrario dell'uguaglianza. Ma non per una questione di misura. Ti spiego perché. Dimmi. Io non credo. Perché nel sesso tu hai letteralmente la maggior diversificazione possibile di gusti, comportamenti, tendenze, psicologia e qualsiasi cosa. Certo. Attenzione. Il punto è questo. Siamo tutti uguali nella sua esecuzione. Cioè, nel senso che è vero che tu hai tanta diversificazione. Ma il sesso viene fatto perché il sesso è qualcosa di... Cioè, il punto è questo. Il sesso è qualcosa di meraviglioso. Ma perché? Perché, nel senso, mi veniva a dire che è gratis, ma non sempre. Vabbè, ma nella maggior parte dei casi diciamo che è gratuito. Poi, in realtà, il fatto che non sia gratuito fa la fortuna... Del senso. Questo amaro è stato l'errore più grande. Io devo parlare del cinema qua. Ti posso dire una cosa? Ti posso dire una cosa? A me, da un po' il cazzo che la gente mi vede solo come uno che parla di cinema. Sono contentissimo io qua. Mi piace che abbiamo preso questa piega. Perché a me, ultimamente, mi dico, ma io però sono qualcosa in più di uno che parla di cinema. Infatti, infatti, guarda. Quindi parliamo di cazzi e di fregni. Quindi, il disco... Hai visto cosa ho appena fatto? Non ho finito la parola fregne. Malissimo. Malissimo. Terribile. Se hai auto-tabuizzato automaticamente. Esatto, viva la figa. Ma a parte questo... Si fa ingogliardia. Scherzi a parte. Il punto è questo. L'uguaglianza... Ovvio che c'è una disuguaglianza se parliamo di psicologia. Perché il sesso non è visto nella stessa maniera per tutti. C'è chi lo ritiene solo come un atto riproduttivo. C'è chi magari è più pudico. C'è chi è più... A me non piace la parola aperto quando si parla di sesso. Chi è più... Chi lo intende... Espansivo. Espansivo. Ad esempio, io sono molto espansivo. Tipo Putin molto espansivo. Espansivissimo. Io ti dico, in questo momento tu non mi devi dare questi assist perché sono cazzi tuoi. No, no, infatti hai ragione. Tu stai facendo un gravissimo errore. Chiudiamo qua. Perché ho visto molti meme su Perlusconi che parlavano... Ma comunque... Quando ho tratto di fare... Ma al di là di questo... Ho suggerito e la gente ha capito. Il discorso è vero che c'è disuguaglianza nel senso che ad esempio io posso avere un pene di una certa dimensione, farlo con un pene di un'altra dimensione, un'altra cosa. Però la cosa che io adoro del sesso è il fatto che il sesso non concerne solo le gonadi. Per molte persone è importante che ad esempio il seno, il seno sessualmente parlando, non è che abbia un ruolo. Però ci sono persone che non sono trattate da donne con un seno più piccolo. Come ci sono donne che non sono trattate da uomini che magari non hanno l'addominale scolpito. Cioè l'addominale scolpito a livello sessuale e meccanico non è che ti... Non c'è nessun conflitto di interesse. Non c'è conflitto di interesse. No, no, assolutamente. Io ti dico, io non ho mai avuto grossi problemi in questo. Quando ero ragazzino, da quando sono più adulto, io avevo fatto sesso molto tardi la prima volta, 23 anni. Che poi anche lì, tardi secondo chi. Però diciamo che per la società attuale 23 anni sono tanti. Perché ero molto insicuro. YouTube mi ha aperto, proprio mi ha fatto capire... Al sesso. Sì, sì, assolutamente. Ok, ok, grazie a YouTube. Sì, sei youtuber, non puoi non... Ma dai, cazzo, la vogliamo dire sta cosa, per cortesia Cristo. E dai, dai. Gli youtuber trombano tantissimo. È vero! Anche se sei streamer, è la realtà. Fermiamoci. Ma è una cosa consensuale. Perché fermiamoci? Sì, sì, assolutamente, hai ragione. Sono abbastanza lucido a non farti bannare. No, hai ragione. Sono perfettamente lucido in quel senso. Però è vero. Se ci pensi è vero. Nel senso, perché tu sei una personalità in vista e ci sono tantissime persone che ti guardano, tra cui anche ragazze che magari non guardano al fisico. Io non ho un gran fisico, non sono un bel ragazzo, me ne rendo conto. Però ho capito con l'età che ho una personalità. Certo. Ok? Sono simpatico. Sono molto simpatico. Qual è il tuo rapporto con il pubblico? Il mio rapporto con il pubblico è buono, nel senso che se io posso fare quello che amo, è merito del pubblico. Cioè il pubblico è straordinario perché dà supporto. Cioè io non sarei niente a livello professionale senza il pubblico, non a livello umano. A livello professionale senza il pubblico. Il pubblico è tutto, ma non devi imparare. E questa è una cosa che voi sicuramente sapete bene. Dare quello che vuole al pubblico senza diventare ostaggio del pubblico. Assolutamente sì. Non puoi diventare ostaggio del pubblico. Questa è una cosa importantissima. Devi sempre fare quello che vuoi adattandoti. È un compromesso. È un compromesso. E quindi tutta la questione… Torniamo all'uguaglianza del sesso. Sì, del sesso. L'uguaglianza del sesso. Praticamente è vero, io posso avere un pene di una dimensione, poi arriva quello che c'è un pene che è grande come una spada al gladiatore, beato lui. Però poi ci sono ragazzi che dicono che sopra una certa dimensione non ce la fanno. Io conosco persone che non hanno magari una grande dimensione di sesso, proprio di pene, ma che sanno come far divertire, godere una donna. Non sto parlando di me, ad esempio. Io sono nella norma, io sono nella media. Nella media. Che sono… No, scherzo. No, scherzo. No, io sono nella media. Io sono perfettamente… Nel senso che sarò, che cazzo ne so, 16, 17? La media è quella. Massimo. Vedi, guarda l'imbarazzo che tu stai… No, perché non è necessario? Perché parlavi di uguaglianza, cazzo. Non fare le misure. Ma è questo il fatto. Ok. Le misure, alla fin fine, non credo sia un problema medico, per amor di Dio, ma anche in quel caso non contano. Perché uno può avere un pene di dimensioni enormi, ma proprio per questo la sicurezza che ha un pene di dimensioni, è vero, di dimensioni enormi, ti porta a credere… A usarlo per imbiancare la casa. Esatto, che basti quello. Quando in realtà la cosa bella del sesso, come lo intende l'essere umano, è che il sesso è una questione meccanica, ma noi l'abbiamo trasformato in qualcosa con tante sfumature. Cioè, non è solo un infilare il pene nella vagina, perché alla fine basterebbe quello. Dai, due o tre colpi, vieni, ed è quello. Fecondi, perché il sesso serve a quello, in teoria. Però è reso piacevole, perché se il sesso non fosse piacevole, non lo farebbe… Vallo a dire ai gatti, per esempio, che hanno le spine, però… Però, se non fosse piacevole, chi è che lo farebbe? Cioè, deve essere appetibile per la riproduzione. Allora, io ho capito il tuo argomento, però comunque non sono per niente d'accordo sull'uguaglianza del sesso. Ma perché secondo te il sesso è disuguaglianza? Allora, in primo luogo… Prima di farti rispondere, ti dico, perché io ad esempio, qui bisognerebbe dibattere su cosa è l'uguaglianza. Perché il punto è, tu intendi forse disuguaglianza il fatto che ci sono tante psicologie diverse. Ci sono tanti, magari uno interessa, uno con una dimensione maggiore, a un uomo interessa uno con… Per me la disuguaglianza è… Vai. L'incompatibilità sistemica. Ok. Questa è la disuguaglianza. Sì, ok. Quindi l'uguaglianza, per me, è un prodotto della civiltà. Io guardo alla natura, non c'è uguaglianza in natura. In nessun ambito, perché la natura è selezione. E nella selezione non c'è uguaglianza. Ci sta. La selezione produce disuguaglianza, la selezione produce disparità, la selezione va a polarizzare sempre. Sì. E la civiltà che noi abbiamo costruito ha proprio il senso di smussare gli spigoli della natura. Vero. Quindi è il motivo per cui per me il sesso è un argomento così centrale, anche da studiare, perché nel sesso tu vedi l'uomo al di fuori, l'individuo, al di fuori della sua civilizzazione. Poi lasciamo perdere che nel sesso c'è anche civilizzazione. Leggiamo The Sad. Ok. Lo strumento, la tecnologia. Il problema è questo. Vediamo se ho capito. La disuguaglianza è creata dalla civilizzazione. No, è il contrario. Non lo so, ti spiego perché immaginati quando non c'era, immaginati una società non civile. Siamo animali e basta. Sì. Il sesso è abbandono. In un certo senso è come no. Il sesso... Tu vuol dire? In che senso? Fammi un esempio. Nel sesso io divento molto più bestiale di quanto sono nella vita vera. Nel sesso io abbandono la creanza completamente. Quando mi è concesso nel sesso faccio cose sempre nel limite della legalità per la por di Dio in cui la civiltà viene abbandonata in buona parte. Abbandoni il linguaggio in buona parte abbandoni... In quel momento è... Ad esempio io a me non piace il sesso quello romantico coccolino ma è una cosa mia. Sì. Perché ognuno poi può avere una... Anche perché è il pre-post quello cioè nel senso... Ti piacerebbe tantissimo. Io conosco persone che tipo il... Vabbè non entra nel particolare. No 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 non è niente ripannabile comunque però non entro nel mento però tipo ci sono persone che vogliono magari una sincronia nell'espressione del climax. Sì sì ho capito quello che intendi. Cioè se arriva bene ma se devi ricercare cioè quella è una cosa molto del romanticismo. Certo. Non è necessario secondo me. Io durante il sesso divento anche gutturale in un certo senso se vogliamo stare a guardare. Sì 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 assolutamente. Io di queste cose parlo sempre molto volentieri e apertamente perché credo che il problema della nostra società è che come dicevo prima ci sbattono in faccia il sesso ma poi il sesso è un tabù. Se ne parla relativamente poco rispetto a quello che dovrebbe parlare. Ed è per me allucinante perché è una cosa talmente naturale talmente irregolare. Non dico che tutti debbano parlare perché se uno non se la sente no assolutamente. Però il problema è che il non sentirsela e vederlo come una cosa sport che è un sostrato culturale sozzissimo è più sozzo quello del sesso secondo me perché alla fine il sesso ti mette a nudo. Però ecco vedi è questo il motivo per cui lo rendiamo un tabù perché nella civiltà noi di nuovo siamo ci riempiamo di maschere. Ti riporta alle origini. Ci riempiamo di maschere. Certo. Non esiste civiltà in cui tutti sono alle origini. Quindi quando tu sei preso dalla fregola tu sei al di fuori della dimensione della civiltà non c'è nulla a fare. Ecco in quella dimensione lì io non riesco a vederci uguaglianza in nessun ambito. Io nella sua perché io lo lo svesto lo sbuccio come una cipolla nella sua pura essenza secondo me sì perché il problema è che la disuguaglianza arriva nel momento in cui c'è il suo stato culturale. Ma perché? Perché il suo stato culturale ti crea delle disuguaglianze nel sesso. Ma no ma lascia stare nel sesso cioè il sesso fai in forma pura quando tu hai un orgasmo e lì sei tutti uguali. Ma ho capito però non è soltanto l'orgasmo il sesso. No certamente dipende come lo intendi per me non lo è però il punto è che se lo intendi da un punto di vista naturale cioè il motivo per cui però lo dobbiamo vedere dal punto di vista naturale l'apice del sesso è l'orgasmo. Va bene e l'apice ci stia e parlo di quello però al di fatto che anche lì c'è una disuguaglianza enorme per esempio fra uomo e donna. Oh attenzione è una disuguaglianza che però accomuno tutte le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Oddio nel senso stiamo a vedere in realtà l'esperienza dell'orgasmo è anche neurologicamente diversa in tanti. molto spesso però deviata dalla società ci sono persone eh come no allora mettiamo da parte il discorso dell'orgasmo è un discorso estremamente complesso secondo me però la sessualità come comportamento certo ok per me è proprio cioè allora questo l'ha raccontato benissimo Kubrick in Eyes Wide Shut per esempio ok perfetto la sessualità senza codici e simboli è il dominio dell'anarchia nel senso che ma scusami in natura trovami l'uguaglianza in natura Vic no è difficilissimo trovare l'uguaglianza in natura no non è difficile è impossibile cioè in natura di nuovo il meccanismo della selezione naturale rompe i presupposti dell'uguaglianza certo vabbè sì in ogni senso sì quando noi siamo nei comportamenti in cui siamo più vicini alle belve ok che poi non vorrei mai affiancare troppo la sessualità alla bestialità nel mio caso sì quando siamo in quegli ambiti siamo molto meno civilizzati rispetto ad altri ambiti sì poi dipende come perché ripeto io faccio fatica a vederci uguaglianza cioè nel senso devo fare veramente uno sforzo di fantasia mentre quando guardo invece a quella che io chiamo civilizzazione con tutte le strutture che ha io vedo una comunità che crea dei delle strutture per smussare proprio quel meccanismo di selezione naturale che in natura distrugge tutto l'uguaglianza secondo me arriva nel fatto che il sesso quello che dicevo prima è che il sesso è abbandono l'abbandono quasi bestiale al sesso secondo me è una cosa che accomuna le persone perché il punto è questo molti rifiutano quel tipo di abbandono c'è qualche problema con la connessione Fede siamo in live ancora perché qua mi è partito il wifi cazzo è tutto a posto scusate allora il mio computer che fa il mona niente a posto ma dicevo l'abbandono bestiale il punto è questo la disuoglianza arriva nel fatto nel momento in cui le persone non si abbandonano e che se ci abbandonassimo tutti allo stesso modo avremmo sensazioni diverse quindi l'uguaglianza nel senso letterale del termine è impossibile vogliamo chiamarla accomunamento perché l'uguaglianza è qualcosa che è identico per tutti ovvio che non può essere identico per tutti ma è un modo di vivere qualcosa che comunque ha sempre uno schema molto preciso tu prima parlavi dell'orgasmo certo l'orgasmo è diverso tra uomo e donna ok per fisiologia senza mai dubbio ma nel momento stesso dell'orgasmo c'è un se non c'è l'abbandono spesso per una questione di sostrato culturale perché alla fine l'orgasmo è un qualcosa che viene io non lo so io per esempio io ho visto diversi tipi di orgasmo ognuno lo esprime in maniera diversa certo ma non tutti riescono ad abbandonarsi per vari motivi perché l'orgasmo è una cosa brutta per vari indottrinamenti che ti hanno dato c'è il problema che è talmente difficile da dire perché devi svestire il sesso di tutto questo sostrato culturale enorme che può essere quello delle legioni quello della pudicizia ci sono tantissimi sostrati è difficile viversi il sesso nella sua forma più pura come fai? è una cosa esiste da sempre grazie al cazzo nasciamo da quello e quindi il sesso è stato considerato però tipo ad esempio io vorrei proprio avere una un drone che va nel passato mi fa vedere com'era visto il sesso nei primissimi esseri umani io lo vorrei vedere cazzo quando ancora la civiltà era un ricordo lontano lo vorrei vedere io vorrei vedere cos'era non credo di volerlo vedere e io sono un grande appassionato di un certo tipo di fruizione io amo io lo dico io amo il cinema a 360 gradi sono un sono un stimatore anche di cinema di un altro tipo assolutamente a pornografico si può dire tranquillamente si può dire pornografico perché io non lo dico mai sono un grande stimatore anche di cinema pornografico non per una questione solo di autoerotismo che pratico tantissimo tra l'altro no attenzione per amore nei tuoi confronti peraltro io credo c'è questa a me una cosa che affascina molto la società è che se ti masturbi non trombi è una cazzata una cosa non escludi io posso fare sesso e venti minuti dopo masturbarmi perché questo è un rapporto col proprio corpo che non deve il non masturbarsi quando hai una compagna è una violenza contro te stesso come diceva voliale nel sesso con una persona che amo e quindi fa benissimo ma è vero ma è vero questo fa parte del moralismo di cui parlavamo prima cioè nel senso assolutamente e peraltro posso dire è uno dei modi perfetti per vivere di merda la sessualità con un'altra persona credere che la masturbazione sia sostitutiva della sessualità è una cazzata è spagliatissimo no è un modo per conoscere il tuo corpo è un modo e conoscerlo ancora perché poi tu dici vabbè ti masturbi da vent'anni che devi conoscere ancora non è vero perché si possono sempre provare la mia sessualità è stato un divenire continuo quando ero ragazzino provavo certe cose mano a mano che sono andata avanti nella mia vita adulta ho iniziato a provare esperienze che prima mi precludevo certo ma anche cose che magari sono tabù tipo per esempio la stimolazione anale no se la fai allora vuol dire che forse non sei tero sessuale no non sei tero sessuale perché certo io sono molto per Ricky Gervais quello che diceva ma perché in certe regioni se in certe regioni c'è un certo steggiamento ma perché ci hanno messo il punto G nel culo effettivamente c'è ragione perché già se tu provi la stimolazione prostatica allora forse non sei tero sessuale ma chi cazzo l'ha detto è una cosa fisica fisiologica certo cioè capito quindi ma magari prima ero più chiuso mentalmente rispetto a queste cose qua perché pensa perché io ti dico questa cosa qua io purtroppo in gioventù dai 12 ai 16 anni ho ricevuto molto bullismo perché considerato omosessuale io ho provato l'odio verso l'omosessualità pur non essendolo ok io infatti empatizzo molto con persone omosessuali discriminate perché l'ho provata sulla mia pelle pur non essendolo e questa è una cosa che mi dicevo e quindi mi aveva creato io non ti hanno accusato di appropriazione culturale no fortunatamente no però c'è stato un periodo della mia giovinezza non ero mai stato omofobo ma avevo il terrore di scoprirmi omosessuali certo ho capito ho capito magari anche non so la tua famiglia no no zero mia madre mi ha sempre detto io tu sei sempre mio figlio l'unica cosa magari nella licea so di questi tempi quanto posso offrire una persona omosessuale mi dispiacerebbe sapere che soffri ok ok certo ma tu sei mio figlio puoi veramente anche avessi una disforia di genere ti amerei esattamente come ti amo adesso ho avuto questa fortuna sia padre che madre perché sai che magari il papà di una certa età mio padre ha 60 anni magari i papà che vengono da un'altra generazione sono un po' meno aperti rispetto proprio non è detto rispetto però alle donne rispetto alle mamme perché se la mamma ha un legame col figlio è diverso la papà io devo dire che il papà non ha un brutto legame il papà ha sempre cercato di comprendermi nonostante io sia diversissimo da lui questo ti dico la più grande conquista di mio padre è stato due settimane fa quando mi ha regalato un buono di acquisto in una fumetteria ho detto minchia papà ci ha messo 34 anni ma ci sono arrivato no però il papà non capiva la questione di youtube all'inizio certo certo non la capiva e poi a un certo punto io ricordo quando ho pubblicato il primo libro lui ha fatto un post in cui mi chiedeva scusa su facebook papà non c'è bisogno no no devo fare pubblicamente mi sembra un po' troppo ma manca la gogna perché io mi metto nei panni di un genitore che vede il figlio di 21 anni che molla lo studio per fare una cosa come youtube all'epoca non c'era però io ero stato ero stato preso come collaboratore in un'azienda di cinema certo in un'azienda che ha proprio dei cinema sì sì mi ricordo mi ricordo movie planet e quindi sostanzialmente io guadagnavo dei soldi pensate che io ho abbonato un lavoro molto remunerativo tu mi hai raccontato delle cose che non dirò qua però mi ricordo che mi hai messo i brividi come mi hai detto ma hai fatto bene certo perché hai seguito quello che era quello che volevi quindi senza divagare troppo il discorso qua è proprio questo il discorso è che io sono stato bullizzato perché creduto omosessuale sì e quindi mi avrei avuto la paura ho detto cazzo se mi fanno questo che non sono omosessuale figurati cosa succede se mi scoprissi omosessuale in realtà anche questa cosa la distinzione tra i generi è una questione culturale fondamentalmente certo perché comunque nel senso non mi sono sempre chiesto ma che cosa te ne frega a te individuo cosa faccio io sotto le lenzuola o dove voglio fare senso cioè tu puoi giudicarmi nel momento in cui sto facendo qualcosa di illegale sto facendo sesso in un parco giochi e lì non va bene è illegale ti esce nel luogo pubblico lo accetto va bene è punibile dalla legge ma se io faccio sesso con un altro uomo in casa mia oppure in un luogo comunque privato cosa te ne frega cioè non l'ho mai capito questo odio verso cioè poi in realtà si capisce perché è anche una paura dell'ignoto è la paura sì sì perché sì ma è quello che dicevo io è il controllo della diversità ah certamente che ci piaccia o meno che ci piaccia o meno la civiltà è uguaglianza anche nei modi in cui non ci piace assolutamente sì perché l'uguaglianza è tentativo di controllo certo per creare l'uguaglianza tu devi fare uno sforzo artificiale e questo è quello che dicevo io prima ah ho capito cioè tu mi hai appena mi hai appena confermato il fatto che al di fuori della civiltà noi siamo disomogenei disuguali però il punto è che io parlo l'uguaglianza si parla anche a livello di sensazione a livello di una sorta di abbandono cioè la frase siamo tutti uguali nel sesso è sbagliata perché effettivamente siamo disomogenei ma siamo accomunati tutti dallo stesso identico atto cioè ognuno lo performa in maniera diversa quando mangiamo però infatti il cibo secondo me è una delle questioni culturali più importanti questo non vale solo per il sesso ma infatti secondo me il sesso non è un caso che quando non fai sesso mangi come una bestia molto spesso guarda che il sesso è quasi un sesso il cibo è quasi io quando quando io c'è stato un momento in cui ero single mi sono dato una castità volontaria ok io sbarranavo sandwich panini cose mi facevo fuori i quarti di bue da solo hai parlato con qualcuno si ne ho parlato con qualcuno e mi hanno consigliato delle ricette molto interessanti del sesso del sesso si la soddisfazione che ti dà l'accomunamento culturale del cibo e quella del sesso non è così dissimile se ci pensi ci sono dei locali io unisco due cose ci sono dei locali in cui potrebbero darti dei connubi straordinari ma non c'è bisogno io uso tantissimo il cibo nel sesso quindi non c'è un problema abbiamo mangiato il sushi da un deretano guarda che è un'esperienza voi ridete però sono cose sono storie di vita vissuta uh mistruscio è il mistruscio giusto non troppo su sushi se riesci a conclusione ti dico solo che siamo in live da un'ora e quaranta ma a conclusione di questa chiacchierata dimmi vuoi fare sesso con me sono molto aperto sono queste cose qua non ci sono problemi anche io posso scoprirlo sono un uomo sposato ma so che Ari è molto aperta mentalmente anche la mia ragazza la mia compagna è stra aperta se vogliamo unire le cose non c'è scherzando ovviamente però nel senso io ti dico sai qual è il punto il punto è che io sono molto sicuro del mio orientamento e nel senso ma non per affermare la mia cosiddetta verità il fatto che se io vedo un pene lo stimo ma non mi cresci da me è una stima intellettuale guarda che per me è una roba terribile perché dico solo a un passo così dall'apprezzarlo completamente non riesco io ti dico io guardo un pene e provo la stessa sensazione che provo di fronte no così parla azzurra tu stradinisce ci sta è una stima filosofica sì poi quando sei di fronte a una vagina cambia un po' il discorso io lì mi annullo intellettualmente divento una specie di cavernicolo diventi disomogenee disomonesse però quando vedi un bel mattonazzo tu dici beh bel mattonazzo di libro ma è una stima anche per il libro io stimo un libro come stimo un pisello però io di fronte a una vagina io di fronte a una vagina io per la vagina ho fatto delle cose inenarrabili ma chi non lo fa vedi che non sei nichilista credi nel potere trascendentale della figa ma quello è nichilismo anche no questo è il quale vagi ma mi annulla qualunque certezza non c'è nessuna la forza di gravità la forza di gravità di fronte alla figa non può un cazzo la vogliamo dire questa cosa per cortesia ma sì Newton di fronte alla figa era impotente ma in realtà beh è morto vergine poveretto hai capito questo lo dimostra vedi e niente state facendo un Newton shaming povero Newton se tu sei d'accordo io adesso fermerei questo flusso di coscienza straordinario passiamo a rispondere a qualche domanda se ne abbiamo le forze per tutti quelli che hanno ascoltato indifferita invece grazie mille per esserci stati grazie diffondete questa puntata che è stata devo dire io veramente sono contento quindi idem grazie davvero grandissimo dopo questi discorsi non mi toccherei troppo diffondete buon weekend e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa ciao 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 ciao